Sono Alessandro Bratti, il direttore di ISPRA, l'Istituto Superiore per la Ricerca Ambientale. Saluto i nostri ospiti insieme a Giuseppe Bortone, direttore generale di ARPA Emilia Romagna, nonché responsabile di ASSOARPA. Ora coordineremo questa giornata, questa mattinata, dedicata al tema del Sistema del Nazionale della Protezione Ambientale, le bonifiche. È un titolo, se volete, un po' generale, un po' generico, che però ci serve per cominciare ad affrontare una serie di argomenti, alcuni dei quali, a mio parere, sono sclerotizzati da diversi anni. Tratterremo sia, ci saranno diverse presentazioni, poi di volta in volta introdurremo gli ospiti, che sono tanti. Nella prima parte avremo il dottor Pascarella di ISPRA e Federico Araneo e Eugenia Bartolucci, che presenteranno un po' un quadro generale della situazione. ovviamente tratteremo sia i siti di interesse nazionali, che costituiscono sempre quello 050, dallo 05 allo 06, 07, cambia poco negli anni della superficie totale del nostro territorio. Poi ci saranno altri interventi dei colleghi di ARPA, che è appunto Laura Schiozzi di ARPA Friuli Venezia Giulia, Marcello Farina, Lucina Lucchetti, ARPA Sicilia, ARTA Brusso. Dopodiché ci sarà una seconda parte che verrà moderata da me, che riguarda una diversa visione che hanno tutti i diversi stakeholder, rispetto anche a che cosa il Sistema Nazionale per la Protezione Ambientale possa fare in un qualche modo per contribuire alla soluzione di un tema che ormai ci accompagna da numerosissimi anni. Fin dall'ott'anno, se parliamo dei siti di interesse nazionale, furono istituiti, mi sembra, nel 1998, se non sbaglio, con una normativa ad hoc a cui si faceva molto affidamento, che in realtà è una normativa che ha avuto poi luci ed ombre, soprattutto perché non è stata mai accompagnata con quelle risorse adeguate, sia da un punto di vista finanziario, ma vorrei dire anche di risorse umane, per affrontare il tema. Insomma, le cose sarebbero numerosissime. Dico solo questo e poi do la parola a Giuseppe. e noi stiamo cercando, dico noi, ISPRA, Agenzie, insieme a altri enti importanti e prestigiosi, l'Istituto Superiore di Sanità, il Centro Nazionale delle Ricerche, il CNR, il Consiglio Nazionale delle Ricerche, per cercare di aggredire il tema sempre di più in maniera integrata. Non ci sono però solo dei problemi di carattere tecnico, anzi mi viene da dire che forse, non dico che siano i minori perché le tecnologie cambiano, le tecniche di aggressione al tema cambiano anche quelle, però abbiamo un quadro normativo abbastanza complesso in questo Paese che si è stratificato nel corso degli anni e che spesso per gli operatori costituisce un deterrente per poter arrivare alla soluzione del problema e soprattutto al tentativo di riprendere, di poter riutilizzare questi territori. Questi territori che, se uno legge attentamente il PNR, in questo caso parliamo dei siti di interesse nazionale a terra, saranno sicuramente un oggetto interessante nella discussione perché, come voi sapete, dei circa 80 miliardi di euro che sono destinati alla transizione ecologica, c'è una fetta consistente di quella progettualità che riguarda la costruzione e il revamping di impianti. Ovviamente quando si parla e si ragiona di costruzione di impianti industriali, non si può non pensare a questi siti, che pur essendo siti, parlo soprattutto quelli di interesse nazionale, ma non necessariamente. Guardate, ci sono dei siti di interesse regionale che presentano ancora una presenza industriale molto forte. Questi siti hanno sicuramente dei grandi problemi da risolvere dal punto di vista ambientale, ma hanno anche delle grandi potenzialità perché comunque sono siti infrastrutturati, strutturati, spesso collegati bene con le infrastrutture sia ferroviarie che stradali, e quindi possono costituire dei contenitori formidabili per la costruzione della nuova impiantistica. Pensiamo all'idrogeno, pensiamo ai pianti di biogas, insomma tutta quell'impiantistica che accompagnerà nei prossimi sei anni la realizzazione del PNRR. Di conseguenza credo che la discussione che poi ha avuto nel tempo, negli ultimi vent'anni, un up and down, perché si era già parlato della possibilità di riutilizzare questi siti per le riconversioni industriali, anche parecchio tempo fa, poi dopo ci sono stati, sono capitati alcuni episodi, si sono perse delle risorse, se mi ricordo allora fu il terremoto dell'Aquila, che drenò parecchie risorse inevitabilmente alla progettualità di riutilizzo di questi siti. Oggi però siamo di fronte a risorse importanti e probabilmente delle potenzialità nuove di grandissimo interesse. Ecco, io mi fermo qui, Beppe darei a te la parola e poi iniziamo. Sì, buongiorno a tutti, molto rapidamente per dare poi spazio ai lavori della giornata. Ha detto Sandro Bratti, l'idea, il titolo, già dal titolo, sì, molto generico, però io lo vedo molto legato per le iniziative che il sistema sta portando avanti, anche grazie a una spinta da parte di Ispra, lo vedo legato a quelle giornate che abbiamo fatto adesso qualche mese fa sulla, si chiamavano TEA, incontri per la transizione ecologica aperta. Allora io lo vedo in continuità con quelle iniziative, qui c'è un approfondimento sul tema delle bonifiche che sarà trainante, credo, per l'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza, ma l'idea è quella di presentare il sistema come, fatemelo dire perché ho promesso la sintesi, con quasi uno slogan, un servizio pubblico ambientale a disposizione del paese. Dopo gli elementi di valore sono evidenti, già dal doppio coordinamento di questa sessione, una battuta questa, ma di solito due coordinatori fanno affondare i lavori della sessione, invece la sfida del sistema è proprio quella, mettere insieme il livello nazionale centrale coordinato da Ispra, da un istituto di ricerca ambientale con i territori, con le agenzie, le 21 agenzie che sono sui territori. Questo va messo in valore, perché questo sistema, costruito così con tutte le sue difficoltà in termini di sommogenità, di tanti altri aspetti, però è quello che sicuramente può dare valore a questo progetto e il tema delle bonifiche si affronta in questi termini, quindi mettendo insieme capacità di coordinamento centrale, le competenze nazionali insieme alle conoscenze del territorio. Allora noi come agenzia questo lo mettiamo a disposizione, non si può fare progetti di bonifica avulsi dal territorio, dalle programmazioni di carattere regionale. Noi come ARPAE stiamo supportando appunto la regione in uno sforzo che ci interesserà per quest'anno e anche per il prossimo, che è l'obiettivo di elaborare il piano regionale delle bonifiche, quindi il rinnovo e il potenziamento di un piano regionale per la bonifica collegato e integrato all'interno della revisione del nuovo piano regionale dei rifiuti che potrebbe chiamarsi, come sta avvenendo anche in altre regioni, il piano dell'economia circolare. Allora sono temi molto legati al territorio, su questo credo che anche nell'attuazione del piano nazionale di resilienza un forte aggancio con le programmazioni e le pianificazioni regionali debba essere assolutamente garantito. L'integrazione è stata chiamata già da Sandro e questo ancora una volta il sistema forse meglio di altri può esprimere questa caratteristica di poter integrare vari aspetti. Il tema delle bonifiche è trasversale a diversi settori, vuol dire evidentemente attuare politiche di recupero dei suoli e quindi nelle strategie che contrastano il consumo di suolo assume un'importanza rilevante, ha degli aspetti giuridico-amministrativi non banali e quindi ancora una volta l'integrazione degli aspetti giurici ha dei riflessi sugli aspetti legati alla salute su cui anche in questo caso il sistema nazionale di protezione ambientale sta cercando appunto di mettere in campo tutte le proposte, le risorse disponibili per creare sempre di più e rinsaldare questo nesso ambiente salute di cui tutte le politiche di transizione hanno assolutamente bisogno. Io mi fermo qua nel salutarvi e faccio una comunicazione di servizio, molti di questi temi che oggi verranno trattati dall'esperienza dell'agenzia all'integrazione alle programmazioni, aspetti giuridico-amministrativi sono richiamati nel volume di nel numero di ecoscienza che è disponibile su web, stiamo predisponendo l'edizione cartacea, il titolo sostanzialmente di questo di questo nuovo numero di ecoscienza, anche in questo caso ecoscienza è una delle esperienze, è la rivista di Arpai ma sostanzialmente è diventato uno degli strumenti di comunicazione del sistema nazionale di protezione ambientale, il titolo è nuovi strumenti azioni per la bonifica dei siti contaminati, quindi vi invito anche a scaricarlo dal web o a consultarlo sul web sul nostro sito, sul sito anche del sistema nazionale di protezione ambientale. Con questo credo, non so se devo dare io la parola a Fabio Pascarella oppure ridò la parola a Alessandro Bratti. Mi pare di capire che dirò la parola direttamente a Fabio Pascarella con la presentazione che il titolo della sua presentazione è la parabola evolutiva del sistema, siamo quindi assolutamente incognitività e i siti contaminati, esperienze e criticità. A te Fabio e grazie anche dalla parte del sistema agenziale per lo sforzo di coordinamento che stai facendo e credo che i risultati stiano assolutamente prendendo forma e consistenza. A te la parola Fabio non ci sentiamo Fabio io vedo il microfono dal tuo staccato e c'è il simbolino ecco adesso sì. Perdonate tanto, perdonate tanto, ricomincio da capo. No, ripercorro un po' la storia diciamo lo sviluppo del del sistema e anche eh diciamo per poi arrivare a un po' di criticità e alle possibili soluzioni. Ehm questa diapositiva solo per dire che appunto il sistema eh non non è nato da un collasto di un buco nero ma sostanzialmente ha una storia che risale eh primi anni del duemira abbiamo fatto delle attività insieme all'Arpa Calabria in corrispondenza dell'allunione eh disoverato e poi abbiamo fatto dei gruppi di lavoro abbiamo eh ragionato insieme all'Arpa Puglia così come i gruppi sono partiti molti anni fa con questi centri tematici qui ho riportato quello sui suoli con il quale abbiamo continuato a collaborare. Ovviamente tutto ciò poi è maturato e si è formalizzato con la legge 131 del 2016 sostanzialmente che eh formalizza un sistema a rete in cui non c'era artico formato dalle agenzie e dall'ISPRA che svolge una funzione di coordinamento diciamo una sorta di primus inter pares eh qui abbiamo riportato un po' di eh numeri relativi al sistema quindi ventune agenzie eh moltissime sedi le ispezioni sopra luoghi un bilancio complessivo di ottocentotrentasei milioni è un costo per abitante anno medio eh di circa eh tredici eh euro ehm diciamo mi premevo un po' ehm riprendere gli obiettivi principali che la legge dà al sistema soprattutto diciamo eh relativi poi al tema delle bonifiche e in questo senso ovviamente a prescindere dal dal primo obiettivo è quello di assicurare l'omogeneità e l'efficacia la esercizione conoscitiva di controllo pubblico c'è il controllo di monitoraggio ambientale il supporto all'istituto tecnico scientifica fuori del ministero delle regioni degli enti locali e questo per noi e per i colleghi delle ARPA è un impegno eh abbastanza significativo c'è l'organizzazione di diffusione della conoscenza ambientale e ultimo il fatto che i dati che produce il sistema sono il ritenimento ufficiale per l'obiettivo amministrazione e questo diciamo è un po' una penso che sia una cosa molto impegnativa per noi ovviamente questo sistema non vive in una galassia propria ma si interfaccia con una serie di enti eh sia dal punto di vista istituzionale che dal punto di vista relazionale abbiamo il ministero della transessione ecologica con il quale diciamo noi viviamo in simbiosi in eh si potrebbe dire ci sono le pro ci sono eh le province ci sono i comuni ci sono le regioni eh così come abbiamo una serie di rapporti istituzionali con enti ricerca che con noi compongono diciamo i tavoli che generalmente ci sono al ministero ma anche i tavoli dei gruppi di lavoro con i quali ragioniamo che sono appunto gli SS l'INAIL così come le associazioni di categoria possiamo appunto qui ho indicato Confindustria piuttosto che UNEM che diciamo deriva di un'epetrolifera con le quale abbiamo anche eh delle collaborazioni e degli e diciamo e delle sperimentazioni che portiamo avanti insieme eh appunto ritorniamo un po' ai siti perché quello che accomuna poi le attività eh principalmente le attività delle app del sistema eh al momento attuale abbiamo quarantadue sin con la recente istituzione del sito eh di Giuliano che però non è ancora perimetrato eh le le su questi siti su richiesta del ministero noi formuliamo pareri congiunti eh con i colleghi dell'agenzia e con delle tempistiche abbastanza strette direi perché sono quindici trenta o quarantacinque giorni eh su tutti eh su tutti i documenti che arrivano al ministero eh per l'eventuale approvazione supportiamo il ministero anche per quanto riguarda i ricorsi dell'avvocatura dello Stato così come affianchiamo gli antilocali nelle attività di progettazione abbiamo delle convenzioni che ci vedono lavorare insieme alle agenzie in Basilicata eh nel Lazio in Abruzzo in Sicilia e così come ovviamente il nostro impegno poi eh diciamo si sviluppa anche in corrispondenza delle linee tecniche e tutto ciò che riguarda l'attività del ministero. Oltre a ciò i colleghi delle agenzie che veramente sono eroici secondo me per il loro lavoro eh validano eh tutta tutta la parte italianalitici i modelli concettuali svolgono una puntuale attività di controllo del territorio e infine preparano la relazione di certifiazione finale per quanto riguarda le bonifiche. Insieme eh diciamo ai colleghi delle agenzie come voi sapete lavoriamo in un gruppo di lavoro istituto al ministero e c'è una norma che prevede che il ministero possa aggiornare gli allegati eh tecnici per la parte eh diciamo delle bonifiche al centocinquante del 2006 e ehm in in questo gruppo lavoriamo in sindicato con le agenzie e con le agenzie su richiesta del ministero abbiamo preparato i contenuti minimi da fornire in occasione della presentazione dei principali documenti inerenti eh le bonifiche. Eh diciamo questo non deve essere visto come un aggravio eh formale quanto un'operazione per far sì che eh chi propone eh diciamo i documenti, i progetti e chi poi analizza e li valuta abbiano un punto di riferimento comune da un lato. Dall'altro anche eh diciamo forniscono una sorta di checklist a chi presenta i progetti per verificare che nel documento che è presentato ci siano eh tutti gli argomenti principali. Abbiamo anche lavorato col ministero e in questo senso qui c'è c'è un grande lavoro eh di coniugazione con con le regioni e le agenzie nel 2019 abbiamo il ministero ci ha chiesto di individuare dei criteri con cui selezionare le priorità di intervento da mettere a finanziamento di piano nazionale di bonifica. Eh sono stati poi utilizzati altri criteri ma noi avevamo maturato un'esperienza tale che abbiamo aperto un tavolo con agenzie e regioni per dare seguito a quanto visto l'articolo cento nantanove che dice che gli ordini di priorità degli interventi all'interno di piani di bonifica sono elaborati eh sono basati su un periodo di evoluzione di rischio elaborato dall'ISP. Ovviamente questo non lo stiamo facendo da soli o stiamo facendo con le agenzie e con le regioni. Così come diciamo per dare seguito appunto alle alle indicazioni istituzionali eh facciamo con con il sistema numerose linee guida che da un lato indicano appunto i riferimenti terci ma dall'altro c'è una grande attività di confronto e di formazione con i colleghi delle agenzie perché comunque per costruire una linea guida eh ci sono diciamo molti moltissime riunioni eh numerosi confronti anche all'esterno del sistema verifiche diciamo sullo Stato dell'Arte internazionale e e questa è una diapositiva che mi deve sempre presentare perché vedete questo è un sito eh Lucina la collega Lucina la conosce bene è un sito nel quale sono stati eh è stata effettuata una sperimentazione in campo presenti in moltissime agenzie c'era i colleghi della mia Romagna del Piemonte dell'Abruzzo ovviamente c'eravamo noi questo per dire che è un'attività di sperimentazione che ha portato alla costruzione delle linee guida sul suo gas diciamo ha contribuito alla formulazione di queste linee guida eh un'altra diciamo un'ultima nominità che probabilmente abbastanza recente eh che eh diciamo costituisce una mole di lavoro abbastanza nuova per noi impegnativa diciamo diciamo sotto un'altra luce eh eh sono stati alcune ehm cambiamenti normativi che sono state fatte per semplificazioni la prima delle quali riguarda eh appunto il contributo del sistema all'interno dei siti di interesse nazionale attività che svolge il ministero di interesse nazionale qui i cambiamenti riguardano il fatto che il ministero diciamo c'è un avvalimento certo che ispera sono sostituite con il sistema l'introduzione del concetto di struttura tecnica questo non è banale perché sostanzialmente il ministero ci chiede nelle richieste di parere di fornire un contributo istruttorio eh diciamo ISPRA fornisce il contributo in quarto coordinatore all'interno di un un parere congiunto con le agenzie ovviamente questo eh diciamo è è un lavoro abbastanza difficoltoso perché due pareri eh quello delle agenzie e quello dell'istituto non è detto che abbiano contenuti necessariamente sovrapponibili perché ovviamente le competenze sono diverse perché le agenzie hanno come vedevamo eh anche dei ruoli di controllo del territorio dei sopralluoghi ehm formano dei verbali quindi diciamo l'impostazione è diversa e soprattutto perché eh diciamo il sistema non avendo personalità giuridica l'emissione di un parere congiunto comporterebbe che questo parere passasse ogni volta per il consiglio nazionale ovviamente formulando noi come sistema circa trecento pareri l'anno che è un numero secondo me molto molto elevato eh questa cosa non è possibile sulla base di questo abbiamo formulato con i colleghi dell'agenzia una procedura che ci consenta di eh diciamo di affrontare risolvono nel miglior modo possibile questa richiesta del ministero questa proposta adesso è all'attenzione del consiglio nazionale altri altri eh diciamo una molle dei lavori in più che viene anche da queste eh modifiche normative introdotte da delle semplificazioni riguardi eh riguardano l'articolo 252 ter che prevede che si possano effettuare all'interno di all'interno di si di bonifica una serie di eh lavori ehm con la con la sola eh preclusione che questi lavori non pregiudichino né interferiscano con l'esecuzione del complemento della bonifica e questa verifica viene richiesta dal ministero eh al sistema così come il comma quattro di questo nuovo attivo 242 ter prevede che nel caso in cui per la realizzazione di questi nelle aree eh in cui si devono realizzare questi eh queste opere non non siamo stati ancora caratterizzati il proponente presenta un piano eh alla all'agenzia di indagini preliminari da concordare entro trenta giorni se l'agenzia non risponde l'ISPRO deve fare in quindici quindi è stessa cosa eh per i siti di interesse nazionale eh qui l'oggetto il piano di indagini preliminari capite bene che eh formulare dei pareri in quindici giorni diventa veramente impegnativo anche perché si sommano comunque al flusso di base che riguarda i trecento pareri anni che noi abbiamo come sistema eh facciamo anche delle proposte diciamo per non essere eh troppo piagnosi piagnucolosi diciamo in questo senso eh questa è l'allegato cinque eh alla parte che riguarda le bonifiche eh fatidica allegato cinque sul quale noi come sistema come agenzie abbiamo già fatto due aggiornamenti uno nel 2017 e uno più recentemente nel 2021 ovviamente i criteri sono stati elaborati principalmente da ISS ma noi eh diciamo ne abbiamo parlato con loro e li condividiamo appieno eh l'ultimo aggiornamento è fatto sulla base della direttiva nuova direttiva europea sulle acque potabili per cercare di eh far collimare i limiti delle acque potabili con queste acque sotterranee di evitare diciamo quelle incongruenze che sono adesso fra limiti eh delle acque potabili e limiti di concentrazione eh delle acque sotterranee eh sono stati inseriti nuovi contaminanti per esempio di FAS così sono state come sono state allineate eh le concentrazioni soglia di contaminazione ai limiti di eh rivelabilità che sono stati verificati dell'agenzia e la definizione di congenie eccetera diciamo l'approvazione eh di questa nuova di questo aggiornamento di tabelle secondo noi costituirebbe un grande passo avanti nella gestione delle boniche così come un grandissimo passo avanti lo costituirebbe eh la diciamo la costruzione del database quindi con azione delle matrici ambientali che ha l'obiettivo di rendere immortalità di sostanzialmente quindi far sì che ci sia un contenitore che raccolga tutti i dati ehm realizzati eh in tutte le indagini che riguardano solo sotto solo acque superficiali acque sotterranee in un unico database che consentirebbe così di evitare lo spreco di soldi spesso pubblici eh che sono stati utilizzati per fare le indagini che poi in tutta di queste indagini che finiscono nei cassetti e così come sarebbe di grande eh di grande impatto su tutta la problematica che riguarda i valori di fondo la contaminazione diffusa la definizione delle matrici ambientali perché ovviamente avere un database alla base eh gestibile disponibile ci consentirebbe di risparmiare tempo e soldi ovviamente alla comunità quindi ma se qualcuno ci chiedesse quali sono le criticità e le azioni conseguenti secondo me le criticità sono il fatto che appunto queste nuove modifiche normative comunque incrementano il carico di lavoro che vi ha sul sistema come diceva il direttore probabilmente il culmine di questo lavoro ancora non ci siamo arrivati ci arriveremo con eh le opere previste nel PNNR il fatto che il sistema diciamo che che debba essere chiaro a tutti diciamo agli enti istituzionali che il sistema non può sostituire le agenzie che comunque continuano a vivere e hanno compiti e funzioni proprie perché appunto eh diciamo eh sono relativo a un altro sistema che è quello regionale e comunque quando sono in conferenze di servizio ovviamente sono anche delegati dai comuni piuttosto che dalle province per e parallelamente dobbiamo consolidare il confronto all'interno del sistema ed ampliarlo anche a tutti gli enti esterni eh sia diciamo antipubblici che associazioni di categoria continuare a formulare e monitorare l'applicazione delle linee guida e sostenere ovviamente una formazione continua questo l'abbiamo visto che lo facciamo con le linee guida eh con con la loro redazione e non ultimo ovviamente rafforzare il sistema con l'assunzione di nuovo personale perché già abbiamo questo carico di lavoro nuovo non può essere gestito a mio modesto avviso con eh diciamo le forze che abbiamo in questo momento passo la parola a Federica Ranio se i coordinatori mi permettono eh direttamente così eh questa la chiudo scusa mi sa di sì e se no poi vieni qua Anto eh tanto so da lo stacco cucina sei ti sentiamo c'è il minofone aperto ah mi scusatemi stacca il nostro hai dato la parola? Sì a Federico ah prego no allora no prego allora buongiorno a tutti eh siamo andati avanti allora sono Federico Araneo insieme a Gianni Abbattolucci abbiamo abbiamo da qualche anno questa esperienza in corso del sistema mosaico e siamo due tecnologi siamo due tecnologi ispra allora il mio intervento è un po' misto e verterà su due su due parti la prima è quella diciamo di quello che è stato fatto e soprattutto mi soffermerò sui risultati che sono contenuti nel rapporto nel rapporto Ispra trecentotrentasette duemilaventuno sullo stato delle bonifiche in Italia in particolare lo lo sguardo sui siti sui siti locali e e tralascerò invece tutta una parte che è stata molto impegnativa di 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 lavoro che è stato redatto diciamo a a a monte a monte del rapporto e invece la seconda parte riguarderà diciamo quello che succederà da 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 oggi in poi e quindi la la messa in campo di mosaico che ormai è un sistema operativo a tutti gli effetti e che ci consentirà auspicabilmente di fare un ulteriore un ulteriore passo passo in avanti allora intanto per quale motivo ci siamo interessati della tematica la risposta è abbastanza semplice ed è contenuta in due norme la legge istitutiva del sistema nazionale della protezione dell'ambiente la centotrenta due che prevede chiaramente eh mi sembra l'articolo tre eh che SNPA assicura omogenità ed efficacia dell'azione conoscitiva ambientale produce promuove e diffonde i dati tecnico scientifici e le conoscenze sullo stato dell'ambiente e sulla sua evoluzione e ne trasmette sistematicamente ai diversi livelli istituzionali eh la i i appunto i risultati e diffonde gli stessi al pubblico la seconda parte invece riguarda la 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 norma proprio specifica sulle sui siti contaminati quindi l'articolo duecentocinquantuno del decreto legislativo cento cinquanta due mila sei la parte quarta titolo quinto dove si si l'articolo recita che ISPRA definisce in collaborazione con le regioni e le ARPA eh i contenuti e la struttura delle anagrafi eh che sono regionali nonché le modalità della loro trasposizione in sistemi informativi nazionali quale mosaico è ehm in che modo in che modo ci siamo dotati di una rete referenti di siti contaminati e una una articolazione operativa di SNPA dove sono presenti tutti i rappresentanti ARPA e ARPA e ovviamente con il ruolo che sottolineo decisivo delle regioni e delle province autonome a cui il decreto legislativo centocinquantadue assegna vedono la nostra presentazione eh aspetta eh guardiamo un attimo poi riesco ah perché non abbiamo più condiviso lo schermo perdonate perdonate condividiamo lo schermo perché siamo usciti precedentemente eccomi condividi a destra e in basso a destra ecco sì sono perfetto ok bene comunque quello che ho detto fino adesso insomma la parte da vedere era proprio niente eh appunto parlavo del ruolo decisivo delle regioni e delle province autonome a cui la la norma assegna il compito di di predisporre le 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 anagrafi da questo punto di vista sottolineo come la nostra iniziativa eh secondo noi ha permesso di veramente di fare un passaggio culturale che è in corso e che non è assolutamente concluso che è quello di passare da un un obbligo di legge sostanzialmente la predisposizione delle anagrafi regionali quindi uno strumento diciamo se vogliamo anche un po' un po' statico e un po' poco utile ha una un vero strumento invece di supporto alle decisioni di monitoraggio di monitoraggio di quello di quello che succede che è oggettivamente il nostro il nostro intendimento l'ambito di applicazione dei dati che abbiamo fornito a marzo duemila ventuno eh è è questo che è che è schematizzato qui quindi i siti i i i procedimenti di bonifica si articolano in quattro categorie di di stati della contaminazione e non solo sui siti contaminati ci sono siti di interesse nazionale di competenza del mite e eh siti regionali di competenza delle regioni eh ovviamente i tre stati di 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 contaminazione siti da indagare siti potenzialmente contaminati fanno parte dei procedimenti di bonifica in corso i siti non contaminati lo sono in funzione dei bonifica di procedimenti conclusi con necessità di intervento o senza necessità di intervento la raccolta dati duemila ventuno è finalizzata ehm relativa ai siti locali eh quindi non ai sin i procedimenti sono quelli censiti in attuazione dell'articolo ducento quarantadue da parte quarta dello quinto quindi non ci sono ad agricole non ci sono rifiuti non ci sono sedimenti di vario titolo non ci sono acque superficiali ma ci sono le le matrici ambientali contenute nella parte quarta dello quinto cioè suolo sottosuolo e acque sotterranee il procedimento di bonifica non coincide con il concetto di sito contaminato è solo una i siti contaminati sono solo una delle quattro categorie dei siti censiti e tra i procedimenti di bonifica per nostra fortuna ci sono anche i i procedimenti conclusi eh che vedremo insomma sono anche una una parte non non indifferente del tema eh non posso trattare tutta la parte metodo metodologica che ha affrontato la rete dei referenti dei siti contaminati vi basti pensare che ai 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 fini della della dell'elaborazione del rapporto abbiamo raggruppato eh delle degli step procedurali che sono stati acquisiti censiti e omogenizzati in tre macrofasi la macrofase della notifica del procedimento la macrofase del modello concettuale eh e la macrofase della bonifica nella macrofase della notifica ci sono varie varie eh vari step in all'interno ehm che comunque prevedono diciamo la il piano di caratterizzazione non ancora approvato nel modello concettuale eh non si arriva ancora alla 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 all'approvazione del progetto di bonifica e la bonifica ovviamente sapete che eh è la fase di rimozione o eh abbattimento della della contaminazione o del rischio ad essere associato quindi nella fase di notifica le informazioni sono scarse lo stato della contaminazione è da definire o quantomeno da confermare nella fase del modello concettuale che è quella di acquisizione conoscenze e di definizione dello stato di contaminazione la bonifica è solo una delle fasi del procedimento questo è il primo rapporto ISPRA che troverete sul sito sul sito dell'ISPRA vi presento brevissimamente alcuni dati eh che sono una sintesi estrema di quello che è stato prodotto i siti eh i procedimenti in Italia sono trentaquattro mila quattrocentosettantotto di cui eh circa eh ad oggi uno più di uno su due sono sono conclusi la eh distribuzione di questi procedimenti la trovate sinteticamente rappresentata nella nella carta a sinistra eh ovviamente eterogenea eterogenea in funzione di ovviamente aree aree industriali ed aree urbanizzate sono ovviamente maggiormente impattate e regioni storicamente più attive nel censimento hanno eh hanno alle spalle molti più procedimenti censiti mh va cito tra tra tutte ehm la la Lombardia e la Toscana ehm e poi un altro aspetto invece importante è che ehm alcune regioni contengono diversi ehm censimenti pregressi eh da norme pregresse o ehm perimetrazioni di ex sin che ne ehm aumentano sensibilmente il numero di procedimenti di procedimenti attivi ehm dunque questa tabella riporto sinteticamente i siti con procedimento in corso siti con procedimento concluso e siti totali eh suddivisa per le varie regioni eh alcune piccolissime annotazioni potrete vedere che sulle sui procedimenti di bonifica totali più di diecimila sono quelli della Lombardia che rappresenta da solo il trenta per cento dei procedimenti italiani e i procedimenti Lombardia più Toscana più Campania fanno il cinquantaquattro per cento dei di di tutti i procedimenti in Italia eh per quanto riguarda quelli in corso sono sempre queste tre regioni quelle maggiormente maggiormente caratterizzanti ehm la Campania eh sottolino che eh contiene eh tre mila duecentocinquantadue siti ehm con procedimento in corso questo deriva dal fatto che la Campania ha acquisito di fatto eh un'eredità molto pesante di ex sin o di deperimetrazione di sin dalle eh dimensioni gigantesche eh per i quali in larga parte non si aveva alcun tipo di informazione ambientale ehm comunque insomma le tre regioni da sole sui sui procedimenti in corso anche qui fanno circa la metà dei procedimenti eh e per quanto riguarda i procedimenti conclusi invece la famosa l'eredità eh Lombardia e e Toscana sono sicuramente quelle maggiormente rappresentativi ho anche sottolineato eh regioni in cui i procedimenti in corso sono preponderanti rispetto a quelli conclusi e in verde invece con la linea piena eh la situazione la situazione contraria. Mh brevissimamente in fase di notifica eh la 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 le i procedimenti in fase di notifica sono novemila centocinquantuno che sono più della metà dei procedimenti in in corso come potete vedere in la la situazione è estremamente eterogenea a livello a livello regionale questa è la classe maggiormente eterogenea rispetto alle altre esistenti eh solo per fare un esempio ci sono diverse regioni che non non eh tengono traccia di procedimenti con notifica senza privi di ascertamenti analitici per questi mi mi ricordo a mente Piemonte eh mi sembra Sardegna e sicuramente ne ne perdo ne perdo alcune quindi il dato è estremamente eterogeneo risente più delle successive fasi progettuali di approcci di differenza del territorio che sono diciamo consentiti dalla norma perché la norma non è così non è così chiara per quanto riguarda la parte del modello concettuale sono 3.404 i siti eh pari al 21% dei procedimenti in corso il modello concettuale è un momento decisivo perché è la fase in cui si eh si accerta la presenza della contaminazione nelle matrici ambientali si quantifica questa contaminazione definendone gli eventuali percorsi critici e sui sui quali poi effettuare l'eventuale eh necessità di 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 intervento di bonifica la parte di bonifica riguarda eh 3.184 siti che sono 2.505 con interventi di bonifica approvati e 679 con interventi conclusi in attesa di certificazione ehm eh nel grafico nella tabella trovate un po' di un po' di di qualche piccola qualche piccola specifica eh c'è da dire che la fase di bonifica è una fase di di sua come possiamo dire che è lunga di per sé intanto c'è da dire che nella nei procedimenti di bonifica l'approvazione del progetto di bonifica ehm conclude di fatto la la parte la parte istruttoria e quindi l'approvazione del progetto di bonifica lascia diciamo lascia dai via alla alla realizzazione della bonifica ma dal punto di vista invece dei lavori quello corrisponde soltanto alla fase dell'approccio del progetto definitivo quindi poi ci vuole una progettazione esecutiva la canterizzazione e poi c'è anche da dire che la 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 bonifica le operazioni di bonifica soprattutto se fatte su eh siti complessi o fatta con tecnologie serie ehm quindi che prevedano comunque ehm tecnologie un minimo un minimo complesse con risparmio di energia e di materia eh sono di per sé eh operazioni che possono richiedere anche diversi anni quindi è normale che in questa fase stazionino diversi diversi procedimenti quello che andrebbe fatto e che ancora non abbiamo fatto è sicuramente monitorare la durata degli interventi di bonifica prevedendo soprattutto per gli interventi più complessi aggiornamenti sugli step di avanzamento della bonifica stessa e non è previsto questo eh censire le tecnologie di bonifica utilizzate e definirne i costi non soltanto per gli interventi pubblici dal punto di vista dello stato della contaminazione per eh c'è una sostanziale eh equiparazione tra i tre tra i tre stati di contaminazione in attesa di accettamenti analitici potenzialmente contaminati e contaminati per quanto riguarda i siti contaminati eh che sono un po' il cuore della della dell'azione dell'azione eh amministrativa e tecnica quattro mila seicentotantanove sono i siti contaminati il sito contaminato è il sito per i quali l'impatto è conclamato sulle matrici ambientali e il il rischio eh non 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 è non è accettabile quindi è lì che eh è necessario l'intervento di bonifica che ne riduca la contaminazione o che ne riduca il rischio a livelli di accettabilità ne ho fatto un piccolo schemino quattro mila seicentotantanove siti contaminati eh su questa tabellina che che proponiamo praticamente ce ne restano senza indicazione novecentosettantadue per i quali sarebbe eh secondo noi prioritario fornire fornire una 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 risposta eh alcune ipotesi le abbiamo formulate eh su questi novecentosettantadue siti eh potrebbe trattarsi di matrice coinvolta soltanto costituita da acque sotterranee e e quindi per le quali la 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 definizione di contaminazione a valle a valle della caratterizzazione eh procedimenti avviati ai sensi del decreto ministeriale quattro sette uno di censimenti ancora progressi per i quali non c'è una totale sovrapposizione tra la le le concentrazioni limite ammissibili di quei tempi le CSC e le CSR insomma ci sono diverse ipotesi possibili eh su questo ovviamente bisogna lavorare i procedimenti conclusi che abbiamo visto sono più della metà dei procedimenti totali per i procedimenti conclusi più del il cinquantadue per cento eh si conclude a seguito delle sole indagini preliminari e due procedimenti su tre si concludono comunque senza necessità di intervento di bonifica basta sommare i procedimenti conclusi a seguito di indagini preliminari quelli a seguito di caratterizzazione e quelli a seguito dell'anesi rischio e solo in tre casi su dieci quindi si hanno si hanno eh si ha avuta l'effettiva necessità di intervento di bonifica e quindi di riduzione eh del rischio eh nel rapporto sono prodotti anche dati comunali ehm che non non vi presento in questo in questo in questa nostra presentazione ci sono dei focus regionali per tutte le regioni con sia mappe che che grafici che eh che tabelle bene adesso eh quindi siamo siamo arrivati abbiamo fatto abbiamo costituito regole comuni abbiamo definito eh abbiamo fatto abbiamo realizzato delle definizioni comuni per avere un linguaggio comune tra tutte le regioni abbiamo redatto un dato nazionale con il livello di delegazione comuna eh comunale la pubblicazione del primo report ma adesso non ci vogliamo fermare la 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 nostra progettazione è già andata avanti in parallelo con queste cose che abbiamo che abbiamo presentato fino adesso vogliamo arrivare a un dato di dettaglio eh al singolo procedimento vogliamo il dato geografico vogliamo la scala temporale per permetterci di di monitorare appunto temporalmente i procedimenti vogliamo il dato ambientale per ehm siamo pur sempre il sistema nazionale protezione dell'ambiente e quindi vogliamo capire dal punto di vista ambientale quali sono gli impatti o quali sono le risposte del territorio e eh vogliamo poter consultare interrogare dati eh diciamo in modo diffuso eh tutto questo non su tutti i procedimenti non quindi il nostro nemico è il tutto di tutto ma sicuramente la 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 nostra il nostro focus è questo qui per questo motivo è nato mosaico ehm che cos'è mosaico non è altro che un database nazionale di procedimento di qualifica che associa un'applicazione web per il caricamento e il controllo dei dati eh che contiene servizi geografici basati sui dati di database è un'applicazione web GIS per la visualizzazione dei dati con differenti livelli di accesso e funzionalità in funzione di appunto appunto ehm ne accede ci piace il termine mosaico perché non solo perché i i ogni procedimento costituisce un tassello alla alla nostra conoscenza ma soprattutto per la quantità di soggetti a vario titolo ehm interessati o implicati nella nella costituzione di questo database che è nazionale e che prevede la la coesistenza di diversi di diversi soggetti mh ehm a vario titolo interessati alcune potenzialità ma proprio brevemente eh lo stato la descrizione dello stato di bonifica in Italia relativo a tutti i procedimenti non solo in ambito locale ma anche in ambito sin la definizione delle aree coinvolte nei procedimenti di bonifica qui vi tralascio tutto un lavoro gigantesco che è stato fatto sulla ehm definizione delle perimetrazioni amministrative e tecniche l'analisi geografica della eh quindi della posizione dei procedimenti di bonifica delle loro interazioni col territorio il monitoraggio delle procedure in funzione della tipologia di procedura eh quindi ordinare semplificata e e molte altre cose monitoraggio ambientale quindi in termini di contaminanti distribuzione valori di concentrazione il censimento dei siti orfani l'analisi sui tipi di intervento adottati in funzione delle matrici coinvolte l'analisi delle tecnologie e e e dei costi è in corso in questi giorni la fase di acquisizione e validazione dei dati dei dati relativi diciamo al 2021 a seguito della validazione dei dati eh questi saranno consultabili sul sul sito mosaico siti contaminati.estambiente.it mosaico è stato testato fino a luglio eh quindi diciamo tutte le fasi di test alla fine sono andate eh con un po' di fatica sono andate sono andate bene ora passiamo siamo passati decisamente alla fase operativa. Conclusioni brevissime finalmente abbiamo redatto eh il sistema nazionale protezione dell'ambiente è riuscito con il contributo fondamentale delle regioni eh a raccogliere sistematizzare e pubblicare i dati relativi ai procedimenti di bonifica in Italia nel rapporto ISPRA 337 2021 il primo rapporto ISPRA ha eh diciamo ha permesso di conoscere moltissimi moltissimi aspetti qui ve ne tratto solo tre e cioè non è vero che le bonifiche in Italia non si fanno più di un procedimento su due ehm eh è concluso molte bonifiche sono attualmente in corso gli interventi di bonifica sono logicamente lunghi e e spesso è giusto così non bisogna eh non bisogna confondere l'intervento di bonifica con il procedimento di bonifica quindi magari chi si lamenta della lungagine dei procedimenti eh può avere delle ragioni ma se invece parli quindi però nel procedimento si parta dalla notifica si arriva alla realizzazione del modello concettuale poi alla fase di intervento eh che è diverso invece dall'intervento stesso di bonifica le indagini preliminari consentono di scoprire numerosissimi falsi positivi un procedimento su due si chiude a seguito della sola indagine preliminare e i procedimenti in fase di notifica costituiscono ad oggi più della metà dei procedimenti in corso le anagrafi regionali e le banche da tesi di contaminati possono eh che sono uno strumento diciamo ehm di legge possono diventare invece un vero strumento attivo e dinamico di censimento monitoraggio ambientale oltre che amministrativo finalizzato alle alla presa di decisioni alla conoscenza più approfondita del territorio a presa decisioni sappiamo benissimo che c'è molto da fare è stato sfoltito moltissimo eh si dovranno inserire nuove informazioni senza cadere nella logica del tutto di tutto questo è il nostro un po il nostro motto è per questo motivo che è nato mosaico che è il nostro database nazionale che permetterà eh il monitoraggio procedurale e dell'ambientale dei procedimenti di bonifica e della loro interazione col territorio grazie a tutti va bene la condivisione interrompiamo la condivisione eh l'audio ce l'abbiamo attivo a questo punto farei un un giro di tavolo con i nostri colleghi delle agenzie se sono così gentili così da diciamo scambiarci un po' di eh di temi anche magari di input su come migliorare il rapporto comincerai da Laura Schiozzi dell'Arpa Friuli Venezia Giulia eh una una collega di lunga data sempre presente attiva nei gruppi nei gruppi nei gruppi di lavoro del sistema alla quale chiederei secondo lei qual è l'espetto diciamo i punti forti e i punti deboli si vuole migliorare diciamo sulla base dell'esperienza che ha avuto fino adesso eh con il sistema eh con il sistema buongiorno a tutti grazie Fabio saluto tutti anche ovviamente i moderatori e rispetto a quello che mi chiede Fabio diciamo che l'esperienza eh con diciamo con qualcosa che era il precursore del sistema eh come Friuli Venezia Giulia e come sito di interesse nazionale di Trieste in realtà l'abbiamo attivata anche l'Interam nel duemiladodici con il primo parere congiunto a doppia firma eh dell'ingegner d'aprile mia quella volta su eh su servola che eh rappresenta eh poi paradossalmente ehm quello che potrà divenire eh un eh uno di questi progetti eh diciamo nell'ambito del PNRR eh e per il quale abbiamo già eh insieme al sistema affrontato uno dei pochi casi in Italia comunque eh credo a di eh che si possa dire di successo i procedimenti ai sensi del 252 bis quindi della riqualificazione ambientale eh come esperienza come diceva Fabio sicuramente le linee guida condivise sono un elemento fondamentale eh per tutti noi per lavorare motivo per il quale tutti ci applichiamo in questo in questo contesto credo che il valore aggiunto che possano dare le agenzie al sistema sia quello della conoscenza del territorio eh mentre eh Ispra può ovviamente dare un livello di conoscenze eh su tutto il territorio nazionale anche in termini eh di eh tecnologie innovative e quant'altro rispetto alle quali ovviamente il eh diciamo l'impellente che eh affligge in realtà il sistema agenziale fra il sopraluogo, la validazione, la relazione piuttosto che eh tutte le altre attività che quotidianamente si svolgono sul territorio eh possono lasciare eh scarso tempo per eh diciamo una fase più approfondita di studio eh credo che il sistema migliore eh ma ma perché lo credo in realtà come persona eh sia quello del concetto di squadra non si arriva a un progetto di bonifica se non c'è squadra, squadra che va fatta ovviamente all'interno del sistema ma anche come diceva eh il dottor Bortone eh sinceramente con tutti gli enti che poi sono coinvolti in questo in quest'ambito. Come migliorare eh parlare di nell'invento del procedimento amministrativo eh credo sia oramai eh cioè d'obbligo ma probabilmente ogni eh nuova eh come si dice affinamento in questi termini ci fa ripartire da da un punto al quale c'eravamo eh appena abituati. Eh punti di debolezza credo fondamentalmente quelli che ha già illustrato il dottor Pascarella nella nella sua ultima slide. Eh in questo momento non avrei altro da aggiungere Fabio a meno che tu non abbia altre domande specifiche. Grazie. Grazie mille. Grazie mille che dell'arte Abruzzo che è stata diciamo la protagonista poi il soggetto principale di quella diapositiva che abbiamo visto precedentemente eh quella sperimentazione che abbiamo fatto nella sua regione eh anche lei molto attiva nei gruppi di lavoro. Con lei insomma abbiamo fatto anche molte molte sperimentazioni di campo. Ecco sì sarebbe sarebbe bello che Lucina ci dicesse se queste cose effettivamente sono servite a far crescere il sistema alle relazioni. Anch'io ringrazio Fabio ovviamente e tutti per averci invitato con l'agenzia. Eh sicuramente questo eh credo sia un nostro punto di forza come come alta cioè noi da sempre abbiamo abbinato all'attività eh diciamo ordinaria eh la eh ricerca di tecniche innovative che ci consentissero di ehm effettivamente effettuare delle valutazioni anche in campo e quindi di eh meglio indirizzare tutte le attività eh che vanno dalla definizione diciamo della delle aree più idonee ad effettuare i campionamenti alla limitazione in alcuni casi anche del numero di campioni da prelevare e quindi ottimizzare anche le risorse eh perché ovviamente tutti sappiamo che poi eh per molti aspetti il collo di bottiglia sono proprio i tempi che sono necessari per l'esecuzione di analisi eh quindi noi abbiamo sempre eh cercato di individuare eh delle eh tecniche che vanno dal fitoscreening che poi è stato eh diciamo anche accolto positivamente da altre agenzie che stanno portando avanti eh analoghi approcci come ad esempio l'Emilia Romagna piuttosto che l'Arpa Ombria e che ci consentono di eh effettuare delle valutazioni anche eh mettendo in sicurezza gli operatori quindi sia eh i tecnici che lavorano eh sul campo eh sia eh i eh consulenti che svolgono attività all'interno dei siti eh questo infatti è uno degli elementi che che ci ha portato a a condividere alcuni eh progetti non soltanto con l'ISPRA ma anche con con INAI, le ASL eh quindi abbiamo partendo quindi dalle attività ordinarie soprattutto ovviamente questo vengono fatti eh diciamo l'attività condivisa che abbiamo portato avanti molto eh diciamo eh con una eh con una crescita non soltanto dell'agenzia ma eh diciamo di tutti i soggetti che hanno condiviso eh eh le sperimentazioni e quindi ritengo che proprio siano eh la parte che ha portato una maggior ehm in eh una maggior innovazione quindi l'acquisizione del dato delle misure della struttura pubblica quindi non soltanto la valutazione perché noi ricordiamoci che normalmente facciamo una quota parte delle analisi ehm che eh acquisiscono no tutti i campioni che vengono acquisiti dal eh dai consulenti o comunque dai soggetti che seguono le eh caratterizzazioni che è comunque minima e quindi poter ehm effettuare queste sperimentazioni ci consente di crescere di collaborare tra le strutture territoriali, le strutture laboratoristiche eh questo è stato soprattutto un elemento di grande sviluppo la ehm con eh con diciamo ehm posso dire che anche per noi già con il SIN Salina Lento oggi eh diciamo diventato un SIR abbiamo avuto importanti esperienze con ISPRA con eh ad esempio mi ricordo con tutte le attività che abbiamo fatto sui sedimenti fluviali eh tuttavia in nelle ultime eh sperimentazioni c'è stata una maggior condivisione di eh più soggetti all'interno delle agenzie e questa unione, questa collaborazione è stato sicuramente secondo me un elemento di grande eh valore perché ci ha permesso di ehm aprirci anche all'esterno, di confrontarci e di crescere notevolmente eh e anche più rapidamente secondo me rispetto magari a un'attività che già di alto livello che veniva svolta all'interno di ogni agenzia. Eh quello che ehm accolgo con grande piacere è questo il discorso di creare delle banche dati. Noi da sempre venendo io da una regione perché io lavoravo al servizio geologico della regione Umbria ho sempre impostato il mio lavoro secondo un diciamo acquisizione del dato eh secondo sistemi informativi territoriali quindi riportare tutti i miei dati su banche dati GIS. Questo perché venivo da una costruzione di una carta geologica eh nazionale e eh questo secondo me a noi è dato tantissimo come lavoro ordinario poter confrontare e condividere con tutti i dati che vengono con diciamo acquisiti giornalmente ovviamente eh individuando questo lavoro e eh indirizzandolo verso i siti di maggior rilievo ovviamente. Ehm come ad esempio abbiamo fatto col SIN no? Con il adesso con il Salina Lento. Individuando degli approcci innovativi che dicevo che sono stati sia quello della misura dei vapori no? Quindi la parte legata ai soil gas, l'importanza del del dei risultati che stanno avvenendo fuori dal dall'utilizzo ora standardizzato su tutto su tutto il territorio nazionale delle misure ehm valori e misure che inizialmente creavano molte paure no? Perché ovviamente quando si affronta una materia nuova eh con tecniche così eh ben definite e codificate dall'agenzia ovviamente all'inizio ha creato un po' di di eh come dire timori ma eh si stanno già in questi pochi anni che le stiamo applicando in maniera così mh impostato stiamo vedendo che eh effettivamente queste sono di grande aiuto e eh ci consentono di fare delle valutazioni anche in tempi molto più rapidi. Noi utilizziamo inoltre eh mi taccio la una proprio per poter svolgere indagini in tempo reale eh utilizziamo molta strumentazione da campo. Questo ci permette di ottemperare due aspetti. Uno la sicurezza come dicevo quindi noi possiamo misurare in tempo reale valutare se ci sono sostanze pericolose per i lavoratori e dall'altra parte ci consente di indirizzare eh i punti più significativi del delle aree. Quindi eh questo sarebbe un aspetto importante cioè dotare tutte le agenzie di una dotazione di strumentazioni portatili eh che gli consenta di poter eh fornire sia questo supporto in diciamo per le persone che lavorano in campo ma anche per fornire dati preliminari ai laboratori che quindi hanno eh possono meglio selezionare le tipologie eh di eh delle analisi, le metodiche analitiche più idonee e ehm la crescita ovviamente delle banche dati. Queste sono le cose sicuramente positive. Eh le eh gli aspetti che ancora devono essere secondo me ben codificati sono i carichi di lavoro quindi valutare se il personale presente all'interno delle agenzie è in grado di supportare eh tutto il lavoro che viene richiesto con eh e di rispondere nei tempi che giustamente eh richiedono le aziende per poter attuare eh delle eh indagini e poter portare avanti il le le la crescita diciamo e la eh recupero dei dei siti. Proprio in quest'ottica noi abbiamo con Ispra avviato anche delle attività delle delle sperimentazioni che sono volte ad individuare delle tecniche green che ci consentono di recuperare in tempi eh anche eh non necessariamente eh brevi i territori utilizzando ad esempio le tecniche di fitorimedio. Quindi mh queste sono sicuramente la parte della ricerca e dell'innovazione è a mio avviso uno degli aspetti fondamentali che potranno portare delle dei grandi risultati. Ok grazie mille Lucina grazie grazie mille abbiamo fatto tante cose insieme appunto ripeto la regista di quell'operazione mostruosa che è stata quel campionamento fatto da tanta agenzie insieme di solgas. A questo punto manca Marcello Farina con il quale abbiamo subito recentemente alcune spinte da parte della regione per fare delle attività diciamo che noi avremmo diciamo eh istituzionalmente siamo stati convinti a farle ma diciamo avremmo fatta meno perché ci hanno caricato di un onere maggiore rispetto a quello che facciamo e ci hanno anche coinvolto in 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 alcune così definizioni economiche avremmo evitato però detto questo con lui abbiamo anche fatto eh stiamo facendo le sperimentazioni in campo eh quindi poi insomma la la nel rapporto è di lunga data eh tu Marcello cosa cosa in che cosa sei cresciuto diciamo in in queste nostre collaborazioni e cosa vedi ancora da 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 migliorare allora intanto mi sentite perfetto sì ti sentiamo Marcello vai tranquillo eh allora io volevo così parlare molto brevemente della della nostra esperienza che è comune che è nata nel sin di gelo un sito molto problematico in cui sostanzialmente dal duemila al duemila e quindici circa eh non si riusciva assolutamente ad andare avanti con eh l'esitazione dei procedimenti di bonifica eh ci sono state caratterizzazioni appunto che si che ancora sono sono durate quasi quindici anni e eh la collaborazione eh Ispra Arpa è nata nel duemila e diciassette e ha dato veramente un grandissimo impulso eh ai procedimenti di bonifica del sin di Gela da un anno devo dire questo meccanismo virtuoso eh si sta instaurando anche nel sin di Briola eh allora eh intanto volevo parlare del del team eh Gela che è che è un bellissimo team che è composto dai colleghi Antonella Vecchio e Roberto Mazzitelli di Ispra eh dal sottoscritto eh da Silvana Bifulco per quanto riguarda Arpa eh con i quali si è immediatamente instaurata una una empatia oltre che a livello tecnico e anche a livello umano e guardate che questo non è un aspetto eh per niente irrilevante perché eh eh lavorare in sintonia è è una cosa veramente importantissima eh è chiaro ognuno nel rispetto delle proprie come diceva Laura Schiozzi delle proprie competenze perché noi consideriamo Ispra la nostra casa madre dal punto di vista tecnico ma è anche vero che eh trasferiamo eh ai nostri colleghi tutte quelle conoscenze del territorio che derivano da da una presenza oserei dire eh quasi giornaliera nei sinne di Gela e Zipriolo e quindi consente a loro di avere le idee molto chiare su quali sono le le criticità ambientali eh da questo modello virtuoso sono eh innanzitutto sono scaturiti eh pareri esclusivamente congiunti cioè non oramai eh sia eh 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 nel sinne di Gela e da da un anno appunto anche nel sinne di Pirolo tutti i pareri che ci vengono riesti dal ministero escono a doppia firma Ispra app. Eh a Gela abbiamo abbiamo raggiunto numeri eh da record costantemente credo che siamo quasi in testa nella heat parade nazionale perché parliamo di sessantadue pareri in cinque anni in alcuni in alcuni casi si è associato anche il libero consorzio comunale di Galtanissette eh in particolare Gela è un sito che eh anche da un punto di vista sociale ha avuto eh grandi problemi perché eh a partire dal duemila e quattordici non c'è più attività produttiva potete pensare che un una una cittadina di centomila abitanti che eh in cui la stragrande maggioranza delle popolazioni sia con direttamente o con l'indotto eh viveva su questo polo petrolchimico quindi con drammi sociali devo dire che anche grazie al nostro contributo eh le attività green vedi la 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 raffineria la bioreffineria eh di Gela eh ma anche tanti cantieri di bonifica attività di decommissioning diciamo che adesso di lavoro eh ce n'è ce n'è veramente tanto. Allora il nostro contributo inizialmente era eh meramente tecnico ma eh in certi casi a poco a poco diciamo che si è evoluto eh eh ed è stato anche di carattere propositivo faccio un esempio c'era una situazione eh dalla quale non si riusciva a venire fuori l'analisi di rischio della raffineria di Gela che copre la maggior parte del polo petrolchimico due revisioni che purtroppo non non avevano eh non potevano essere eh diciamo così accettate perché c'erano criticità importanti parliamo di presenza di prodotto sul Natante, di valori di sovigas elevati, di eh concentrazioni eh maggiori del CISAT e al che è stato proposto quello che poi abbiamo ribattezzato il modello Gela cioè dire un approccio differenziato nell'ambito dello stesso sito eh stralciando le aree in cui oggettivamente non si potevano non si poteva applicare l'analisi di rischio e quindi si è ricorso agli cosiddetti interventi di mitigazione e invece eh seguendo l'azienda proprio passo passo sino proprio a diciamo così affiancarla nell'elaborazione dell'analisi di rischio laddove questa poteva essere applicata. Allora questo modello questo eh meccanismo virtuoso ha funzionato così bene che come accennavi tu eh Fabio eh nel duemilaventi la regione siciliana proprio su input del ministero eh ha formalizzato una richiesta eh di ausilio al fine di eh definire gli accordi di programma per il SIN di 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 Gela e Priolo e quindi in questa fase abbiamo anche avuto eh nella proprio nella parte di ricognizione del dei vari siti che dovevano rientrare all'accordo di programma eh la presenza eh dei colleghi di Ispra e quindi abbiamo proprio eh fatto uno screening molto dettagliato con nostra grande soddisfazione eh devo dire perché i tempi erano estremamente ristretti cioè questo lavoro è partito a giugno avevamo come data limite il trentuno ottobre per consegnare le relazioni perché poi entro il trentuno dicembre bisognava eh chiudere gli accordi di programma con la sottoscrizione la eh eh la sottoscrizione di tutti i soggetti eh partecipanti e devo dire se nel SIN di Gela era molto eh facile perché eh i sottoscrittori erano eh provincia e comune nel SIN di Priolo eh la nostra paura era che avendo quattro comuni perché parliamo di Augusta, Priolo, Melilli e Siracusa eh qualcuno non fosse d'accordo invece con nostra grande soddisfazione entrambi gli accordi hanno ricevuto eh l'adesione immediata dei sottoscrittori parliamo di eh ventiquattro milioni e cinquecentomila euro di risorse per Priolo e quindici milioni eh per il SIN di Gela eh sulla scorta di questa esperienza positiva la regione ci ha preso proprio gusto e quindi eh ha eh reiterato la richiesta di ausilio anche nell'ambito del programma nazionale di finanziamento degli interventi di bonifica per il ripristino ambientale dei siti orfani per cui è stato individuato il sito numero uno in Sicilia che è fuori dal SIN ma le stesse problematiche identiche dei siti eh SIN la discarica di contrata Marabusca per cui anche l'in tempi record siamo riusciti a eh eh a fare eh un a relazionare e predisporre una scheda per la messa in sicurezza permanente di questo eh discarica. Eh eh ti posso chiedere di andare verso la chiusura così? Assolutamente. Allora niente ultimissimo dato positivo la collaborazione il caso di sperimentazione dei campionatori passivi eh facente parte dell'accordo ISPRA UNEM è stato individuato proprio un sito nel petrochimico di Gela questa sperimentazione già è stata portata a termine eh concludo con quelle che secondo me sono eh i punti così le criticità che che andrebbero un attimo affrontate. Allora intanto eh l'esigenza di una delle linee di guida comuni nazionali. Allora io sono eh ho attraversato l'esperienza positiva ad esempio del gruppo di lavoro otto eh sulle terre rocce da scavo che ha licenziato un'ottima linea guida mentre nel gruppo di lavoro nove eh con il quale fra l'altro eravamo arrivati eh a maggio duemilasedici a produrre secondo me un documento un ottimo documento eh che era rappresentava le linee guida eh delle attività di controllo nell'ambito appunto dei procedimenti di caratterizzazione analisi di monitoraggio e collaudo in cui noi eh come Sicilia coordinavamo il gruppo e grazie agli importanti contributi tutta eh le varie ARPA è venuto fuori un bel documento purtroppo eh insomma questo documento che è alla fine il diciotto maggio duemilasedici aveva visto la versione definitiva poi in effetti non non ha avuto più eh un seguito. Eh c'è il problema delle validazioni che ancora continua a essere eterogeneo dal punto di vista nazionale non è un problema di poco conto perché guardate che ci sono anche spesso e volentieri refluenze con eh l'attività giudiziaria per noi l'attività di validazione quindi poter testimoniare l'attività eh alla l'autorità giudiziaria che noi eh che i vari siti vengono seguiti certificati anche da un punto di vista proprio di controllo delle matrici ambientali è fondamentale. Eh un'altra cosa importante è eh il problema della ripenetrazione che purtroppo spesso è e fa parecchi casi è stata fatta veramente con l'abbiro. Noi abbiamo avuto casi eclatanti qui a Priolo di caratterizzazioni fatte che vi posso dire dentro il cimitero comunale oppure eh per la fossa Imof di un pensionato per cani casi casi paradossali solamente perché questi queste aree avevano il il torto di rientrare nel perimetro del Sino. Sono paradossi che andrebbero evitati. Allora noi come ARPA anche se non teoricamente non ci competeva abbiamo preso l'iniziativa di eh affiancare di fare da tutor ai vari comuni e spiegare a loro cosa va effettivamente incluso nelle perimetrazioni e cosa non va incluso. Un'ultimissima considerazione è chiuso e allora eh io vedo eh l'SNPA un po' come il parallelo del Servizio Sanitario Nazionale e dobbiamo riuscire a fare rete anche dal punto di vista laboratoristico. Allora mi è capitata un'esperienza diciamo negativa qualche anno fa eh era stata prescritta per un sito la speciazione del mercurio purtroppo il nostro laboratorio non era i nostri laboratori non sono attrezzati per questo tipo di analisi per cui ho chiesto per le vie brevi ad un'ARPA di cui non dico il nome di potere eh di poterci collaborare ovviamente con oneri assolutamente a carico dell'azienda. Devo dire che ho trovato un'accoglienza non dico stile ma sicuramente molto fredda e solo dopo tante insistenze sono riuscito ad avere un riscontro positivo ma questa cosa un po' mi ha segnato eh negativamente. Niente io Fabio avrei concluso spero. Grazie mille. Grazie Marcello. Grazie mille veramente un'altra un'altra persona preziosa che si segue insomma lui e pochi altri eroi due siti forse i più complicati che abbiamo in quell'interesse nazionale. Ovviamente adesso eh il direttore coordinerà la tavola rotonda. Va bene eh eh grazie di queste testimonianze eh anche l'ultima interessante perché riguarda anche lo stimolo interno a lavorare meglio e in maniera più integrata. Ricordo eh qui c'è Giuseppe Bortone e poi potrà dirvi quello che stiamo facendo che ha fatto che avete fatto fondamentalmente voi come agenzie nel rapporto con il sistema della sanità. Io credo molto molto importante perché stiamo chiudendo a livello nazionale credo accordi molto molto importanti che consentiranno anche di migliorare diciamo sia la rete nostra sia i rapporti con il sistema sanitario. Tenete presente che nell'attuale PNRR c'è questo progetto eh che eh noi critichiamo nostro molto il nostro sistema che ha un sacco di problemi. Però eh la sanità ad esempio è esaltata nel nel voler cercare di rimettere di mettere in piedi un sistema come il nostro se nel recovery plan nel fondo complementare si parla infatti di costituzione di questo SNPS che il sistema nazionale non so se per sia prevenzione sanità adesso non so esattamente ma che ha proprio l'obiettivo di mutuando l'esperienza nostra di costituire una rete anche sulla prevenzione eh sui territori che ovviamente dovrà lavorare in forte sinergia con con noi. Quindi eh alcune questioni probabilmente nel tempo si potranno si potranno modificare e e anche potranno essere una buona un buon viatico diciamo per sviluppare i nostri due sistemi. Eh detto ciò io inizierei questo giro di tavola rotonda allora eh dando la parola io seguo quella le indicazioni diciamo che mi sono state che mi sono state fornite dalla sapiente regia di Pascarella quindi eh il primo eh a intervenire a cui ovviamente qui stiamo parlando no il titolo generico è cosa può fare il sistema per il paese quindi eh c'è un'ampia libertà da parte degli intervenuti eh il primo è Andrea Minutolo di Lega Ambiente. Stefano Ciappani non so perché nel programma forse c'è Stefano. C'è Stefano Ciappani nel programma? Sì eccolo qua. Stefano. Ah allora scusa Stefano ti avevamo già sostituito e e invece ci sei e ti ringraziamo con Stefano con Lega Ambiente stiamo lavorando spalla spalla tutta una serie di questioni e Stefano un profondo conoscitore del sistema e devo dire un preziosissimo alleato nonché un eh un sostenitore delle 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 agenzie. Ecco su una questione Stefano importantissima come questa delle delle bonifiche hai visto che insomma la rete con qualche problema ma è molto forte e sta di fatto eh funzionando ma come eh tu ben sai abbiamo la necessità assoluta di potenziare questa questo questa questa rete e abbiamo lanciato tanti segnali come diceva prima Bortone anche attraverso seminari per far comprendere ai decisori politici che costituire una rete eh eh ambientale di protezione di supporto alle decisioni è molto importante in questa fase diciamo che i cantieri sono aperti e e volevamo appunto capire anche per voi un'importante ehm associazione come Lega Ambiente un po' come ne penso. Prego Stefano. Sì grazie Alessandro ehm eh grazie all'SNPA e a Remtech per questo invito ehm su un tema che insomma come giustamente ricordavi anche tu c'è molto c'è molto caro. Io ehm cerco di non farla lunga diciamo articolerò il mio intervento diciamo su tre eh temi eh i principali. Il primo è il tema della diciamo dello stato di avanzamento della delle bonifiche del nostro paese eh questo l'abbiamo sempre come dire eh già dal millenovecentonovantotto anzi già dal novantacinque quando furono definite le prime aree adevato rischio di crisi ambientale e poi nel novantotto quando viene lanciato il programma nazionale di bonifica con i primi quindici sin ehm definiti insomma noi abbiamo sempre eh vissuta eh questa avventura del paese come una grande opera pubblica necessaria ma purtroppo in questi diciamo venticinque anni abbondanti l'abbiamo dovuta come dire anche raccontare come una grande opera incompiuta per tanti per tanti motivi. Eh non eh è inutile ehm eh ricordare la complessità ovviamente di alcuni interventi eh molto molto impegnativi insomma al Siracusano, Marghera, eh altri interventi diciamo di siti nazionali eh sono molto più contenuti sia nel nella eh nell'inventario delle sostanze inquinanti che nella complessità del sito. Tutti gli altri siti diciamo quelli di interesse regionale e anche quelli più locali che eh voi avete eh in qualche modo anche rappresentato con le varie pubblicazioni che il sistema nazionale ha eh ha 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 compiuto insomma ha prodotto negli ultimi eh negli ultimi anni. È una materia molto complessa. Eh sono situazioni a volte davvero davvero di una complessità davvero importante. Eh ci sono state anche diciamo diatribe molto lunghe rispetto alla complessità della normativa che è stata molto 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 semplificata negli anni e a fronte della semplificazione della normativa non c'è stata una paragonabile velocizzazione eh del liter di risanamento. La responsabilità diciamo ovviamente ricade su più soggetti. Eh insomma sicuramente questa non è stata per certi versi una priorità per il paese. La dico così perché se penso a le difficoltà che il ministero prima dell'ambiente oggi la transizione ecologica ha avuto nel gestire insomma fino a cinquanta sì oltre cinquanta sì di interesse nazionale eh la difficoltà del personale presso il ministero la precarietà del del personale al ministero eh la difficoltà diciamo della degli istituti tecnici a supporto eh della dell'inadeguatezza del ministero questo devo dire Ispra ha fatto sempre un lavoro eh molto molto importante. Le ARPA hanno cercato nei limite del possibile e nei limite della possibilità che gli veniva garantita eh da dalle regioni di poter in qualche modo contribuire a questo sistema ma c'è stata una mancata volontà di investire su questo fronte sia dal governo nazionale che dai governi regionali e ovviamente diciamo la dico in termini diplomatici ovviamente i responsabili della contaminazione a forse a a fronte della lentezza del processo ovviamente erano ben felici di ritardare gli interventi e quindi anche le spese le spese connesse. Questa per dirla velocemente rispetto a come è andata eh a volo d'uccello in questi venticinque anni. Io credo che le interventi che si stanno facendo soprattutto negli ultimi negli ultimi anni e negli ultimi mesi da una parte eh diciamo possono forse dare come dire un maggior respiro rispetto alla velocizzazione dell'idea e dall'altra parte invece ci preoccupano eh enormemente. Mi spiego. Ehm noi abbiamo discusso tra la fine dell'anno scorso col precedente governo e l'inizio di quest'anno insomma eh dal dal mese di marzo in poi con il nuovo governo su come dovevamo spendere eh le risorse del next generation. Questi centonovantuno miliardi di euro che l'Europa ci ha fornito a cui poi noi abbiamo affiancato anche le le risorse del fondo complementare eh nazionale. Ecco la disattenzione del paese su questi temi. Noi l'abbiamo vista anche nella discussione che c'è stata relativa al piano nazionale di ripresa e resilienza. Perché insomma eh questa disattenzione eh l'abbiamo diciamo si esplicita sostanzialmente anche in alcune cifre che sono presenti all'interno del del piano. Noi siamo stati ben felici di vedere cinquecento milioni di euro destinati alla bonifica dei siti orfani. Eh insomma eh ricordo quindici anni fa facemmo la la proposta abbondantemente quindici anni fa e forse anche un po' di più facemmo la proposta di attivare anche in Italia un super fund statunitense eh tema su cui si è esercitata anche la commissione parlamentare di inchieste sul ciclo di rifiuti per trovare una modalità di finanziamento per bonificare i siti che non erano più padroni. ehm insomma cinquecento milioni di euro è come dire eh una cifra che insomma è importante ma ovviamente assolutamente insufficiente rispetto alle migliaia di siti orfani che ogni anno raccontiamo nella portegomafia eh che vengono in qualche modo eh come dire causati da ad esempio smaltimenti illegali di rifiuti a volte anche pericolosi in aree demaniali oppure in in siti dove i proprietari del terreno non sono in grado di affrontare quelle quelle spese. Quindi bene le risorse per i siti orfani cinquecento milioni di euro non sono assolutamente eh adeguati come 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 cifra e ci si è dimenticati per certi versi anche di tutto il resto dell'infrastruttura perché ci sono i siti orfani che sono un problema ci sono anche i siti con con padrone a partire dalla diciamo i siti che è su cui c'è una ehm c'è una responsabile diretta da parte eh delle ehm delle istituzioni delle istituzioni pubbliche. Ecco eh la la disattenzione cronica su questi temi da parte del sistema paese la dico così l'abbiamo ritrovata anche all'interno della discussione e nelle parole inserite all'interno insomma ovviamente nel nello svolgimento dell'esercizio che il paese ha fatto nello scrivere il piano nazionale di ripresa e resilienza ma soprattutto e chiudo la più grande è nostra preoccupazione e venga un tema eh con cui diciamo eh si è costruito come era un rapporto sempre più forte con il mondo eh con il mondo col sistema dei controlli nel nostro paese eh lo ricordava Alessandro Bratti poco fa insomma siamo stati tra le voci che nell'ultimi negli ultimi anni a partire insomma da quando siamo riusciti a portare a casa la legge che ha inserito i delitti ambientali nel codice penale nel duemilaquindici la legge sessantotto dopo ventun anni di lavoro siamo riusciti a portare a casa anche la legge che ha istituito il sistema nazionale di produzione ambientale che insomma che si si passava da una legislatura all'altra e nel duemilasedici siamo riusciti insomma insieme a diversi parlamentari insomma a partire da da Alessandro Bratti allora eh siamo riusciti a a portare a casa questa questa riforma importante ehm ehm credo che ehm ci sia una fortissima disattenzione del paese su questo tema perché noi eh vedremo eh procedere più velocemente il risanamento ambientale e le bonifiche vedremo procedere più velocemente la transizione ecologica e eh riusciremo a spendere tutte le risorse eh del Next Generation New entro il duemilaventisei che è una grandissima opportunità che rischiamo di mancare se il paese oltre ad avere bene le idee chiare su dove deve andare e devo dire che la discussione delle ultime settimane sul caro bollette come quella sul destino dell'automotive di qualche mese fa ci lascia un po' come dire dubbiosi che il paese sappia dove deve andare perché la transizione ecologica è una grande opportunità non è un problema la transizione ecologica non è è una grande opportunità non è un bagno di sangue la transizione ecologica è una grande opportunità e non è un problema lo ribadisco ancora una volta eh ho letto oggi l'intervista del ministro Cingolani eh sul Corriere della Sera e che insomma corregge eh la la rotta e questa come dire è una cosa importante le parole del del premier Draghi nei giorni scorsi bisogna oltre a dire le cose in ambito internazionale oltre a rilasciare interviste diciamo sicuramente migliori delle precedenti sui giornali poi bisogna fare le cose concretamente ecco sul sistema dei controlli non ci siamo per niente perché eh eh andiamo più velocemente se semplifichiamo se abbiamo le idee chiare se semplifichiamo l'iter assolutamente possiamo continuare ad andare avanti con aste sul sull'eolico eh nel nostro paese eh che dimostrano il disinteresse delle imprese italiane e straniere rispetto alla alla all'installazione di impianti olici nel nostro paese non perché non ci sia il vento è perché farle in Grecia piuttosto che in Spagna è più semplice che farlo in Italia ecco queste cose noi dobbiamo rimuoverle ma detto questo noi facciamo in modo che le semplificazioni necessarie e sono necessarie lo ribadisco del nostro paese eh permetteranno all'Italia di praticare veramente la transizione ecologica se noi infrastrutturiamo concretamente e rafforziamo concretamente il sistema dei controlli ambientali questo in Italia non si sta facendo perché da una parte mh lo lo ricordo per l'ennesima volta siamo ancora in attesa cinque anni della legge di decreti attuativi sul sulla legge che ha istituito il sistema nazionale di protezione ambientale stiamo ancora a discutere i decreti che sono scritti e ancora di cui non vediamo di cui non alcuni sono scritti di cui non vediamo eh luce le regioni alcune regioni non vogliono investire eh sul rafforzamento delle arpa mh non non utilizzo giri di giri di parole ehm all'interno del piano nazionale di presa e resilienza non abbiamo visto l'attenzione che meritava questo eh questa ehm questo eh questa attività importante per il paese noi siamo molto preoccupati non molliamo la presa ma siamo molto preoccupati che eh il sistema dei controlli ambientali sia considerata la cenerentola della transizione ecologica invece uno dei pilastri su cui si deve costruire questo eh questa rivoluzione del nostro del nostro paese ehm continueremo e chiudo continueremo ad ad insistere perché senza un sistema dei controlli eh adeguato all'altezza in tutto il paese in tutto il paese lo diciamo da da prima e del duemilasedici quando poi siamo riusciti eh a far approvare la norma per doveva essere uniformato e reso omogeneo su tutto il territorio nazionale questo sistema ancora ad oggi non ci siamo eh vedremo eh nei prossimi mesi se avremo dei segnali concreti ad oggi devo dire non li abbiamo visti ma insomma noi la nostra azione di pressione eh eh informale formale e pubblica continueremo a farla perché altrimenti rischiamo veramente di fare altri guai nel paese e non ne sentiamo assolutamente il bisogno. Grazie Stefano grazie davvero ovviamente eh non possiamo che non concordare con questa con questa visione che ci accomuna molto. Eh grazie per il tuo contributo. Ora eh eh in linea ci dovrebbe essere Giuseppe intanto ho visto che è arrivata anche l'assessore priologo e ringrazio eh oltre ad Angelo Merlin dico bene tutti gli altri insomma ospiti ci sono tutti. Dare adesso la parola a Giuseppe Battarino che è magistrato collaboratore della Commissione parlamentare d'inchiesta su attività illecite connesso al ciclo dei rifiuti su illecite ambientali che eh soprattutto nella nella scorsa legislatura è stato protagonista perché è relattore di numerosissime eh eh relazioni tra cui quella sulle bonifiche quando abbiamo l'ultima relazione che la Commissione bigamerale ha svolto sullo stato dell'arte delle bonifiche di fatto eh c'è ampiamente la sua mano su tutto quel lavoro eh conosce molto bene il nostro sistema e quindi darei a lui la parola e mi scuserei per qualche minuto perché ho un'audizione con la corte dei con la corte dei conti a cui potete ben capire devo partecipare e e ma chiederei a Giuseppe Burtone di sostituirmi nel coordinamento della tavola fino diciamo al mio al mio ritorno non voglio non voglio sfruttarti però insomma mi mi dai una mano grazie ovviamente poi ritorno comunque ritorno anche solo come uditore ti lascio ti lascio la regia delle operazioni eh prego Battarino grazie grazie Alessandro e e buon divertimento con la corte dei conti perché sicuramente ne avrai bisogno eh allora intanto un ringraziamento particolare per avermi consentito di partecipare a questa a questo incontro ehm anche perché eh come sapete la mia la come molti sapranno la mia collaborazione con la commissione parlamentare di inchiesta è è cessata però spero di poter portare un contributo sulla base dell'esperienza che che ho maturato e di cui Alessandro Bratti ehm a cui Alessandro Bratti ha fatto riferimento devo dire mi piace il titolo che ne diano di questa tavola rotonda che cosa può fare il sistema di più per il paese ma proprio mettendomi in linea di continuità immediata con quello che diceva Stefano Ciafani e che condivido che cosa può fare di più il paese per il sistema perché credo che questo sia un un tema fondamentale ma il sistema che cosa può fare il sistema innanzitutto io credo debba fare se stesso e fare se stesso vuol dire farlo secondo quello che è previsto nella legge centotrentadue eh da questo punto di vista ed è quello che è stato molto ben descritto sul nostro tema nella nella relazione di di Fabio Pascarella ehm fare se stesso secondo la legge centotrentadue vuole anche dire ottenere eh quei quei ehm decreti attuativi a cui pure Stefano Ciafani faceva riferimento ma io insisto su su un tema l'ho anche scritto l'ho anche detto pubblicamente più volte il sistema ha una sua autonomia istituzionale autonomia proprio in senso etimologico vuol dire potersi dare delle regole allora io credo che il sistema possa ehm operare al massimo spingendo al massimo sulla propria capacità di autoorganizzazione di autonomia eh in maniera tale da eh poter ottenere il massimo dei risultati anche a presci organizzativi anche a prescindere dalla decretazione integrativa che devo dire anch'io nell'esperienza della commissione non solo nelle audizioni quantomeno degli ultimi due ministri dell'ambiente eh o della ora transizione ecologica venivano annunciati come imminenti domani tra una settimana tra un mese ma insomma ancora ancora mancano. Eh in tutto questo e e credo che quello che ci siamo detti oggi eh valga particolarmente una eh chiave fondamentale è la conoscenza. Allora questa chiave della conoscenza è innanzitutto eh la conoscenza del dato ambientale ehm il sistema per legge per la legge centotrentadue è il detentore del eh dato ambientale validato da fornire al paese alle istituzioni e ai cittadini. Eh io chiedo scusa chiedo soltanto la conferma del fatto che mi si stia vedendo perché non vedo il il video. Sì sì perfetto Giuseppe si vede e si sente. Ah ok grazie. Con tutta la chitarra. Prego. Anche la chitarra dico. Ah no allora questo lo devo togliere per non entrare in concorrenza con Stefano Ciafani che è un vero chitarrista. Io sono inadeguato rispetto ai livelli del presidente Lega Ambiente. Ehm dicevo eh questa conoscenza validata del sistema nazionale eh è una conoscenza che può costituire il nucleo a mio avviso di qualche cosa di più vasto in cui il tema delle bonifiche può essere fortemente significativo anche se non esaustivo. Eh io credo che noi abbiamo bisogno di un dato ambientale integrato e generale eh inteso come un insieme di conoscenze sullo stato delle matrici ambientali una fotografia per una bonifica ma anche per un processo penale ma anche per una pianificazione del sistema dei controlli è necessario fotografare lo stato delle matrici ambientali comunque quindi quella fotografia sullo stato delle matrici ambientali delle attività amministrative di governo del territorio delle autorizzazioni di attività di impatto antropico del controllo sulle attività umane che producono pressione antropica degli esiti dell'esercizio di funzioni di polizia giudiziaria e di eh attività giurisdizionale in materia di tutela dell'ambiente. Tutto questo non può che stare assieme e deve partire, deve essere creato, deve essere costruito, poi dirò anche con quale immaginazione giuridica immagino che sia possibile farlo e può essere costruito a partire dai compiti istituzionali del sistema. il riferimento al database geochimico nazionale ma la stessa esperienza di mosaico che io già conoscevo della quale avevo nozione attraverso discussione e lavoro comune con Fabio Pascarella possono essere il nucleo di questo dato ambientale globale, il nucleo scientificamente validato. e tutto questo è qualche cosa che deve fluire dal paese, dalle sue istituzioni al sistema e rifluire dal sistema alle istituzioni e al paese. Questo è uno schema minno. Chiaro, c'è poi un problema di fruizione effettiva e di volontà di effettiva fruizione di questo dato ambientale. Faceva Alessandro Bratti, riferimento al nostro lavoro in commissione avviato molto opportunamente e molto oculatamente da Alessandro Bratti come presidente e concluso a fine legislatura da Chiara Braga che gli era succeduta nella presidenza, di una relazione sullo stato di attuazione delle bonifiche. Fotografia al 2018, 1400 pagine di lavoro che io ho condiviso a quattro anni con Laura Schiozzi che non finirò mai di ringraziare per quello che mi ha insegnato in questa esperienza, fornito ai due diversi ministri dell'ambiente della transizione ecologica senza apparenti risultati. Magari adesso il ministero si starà lavorando tantissimo sul miglioramento delle procedure, sull'efficientamento delle procedure, non lo so. Di certo ISPRA e Sistema Nazionale hanno continuato un lavoro prezioso in questa materia, ma manca, come dire, la quadra organizzativo-giuridica che dovrebbe accompagnarlo. Alessandro Bratti sull'ultimo numero di Ecoscienza che Giuseppe Bortone prima opportunamente citava, scrive un editoriale importante sulla possibilità di lavorare in maniera coordinata tra più istituzioni, l'ipotesi formulata è quella di un gruppo di lavoro tra più istituzioni. Io dico che all'estremo opposto, con un po' di immaginazione giuridica, ci potrebbe stare addirittura un'autorità indipendente che si occupi specificamente di questa partita perché è una partita decisiva per il Paese, ma ci potrebbe stare una struttura specifica del sistema nazionale, governata o da ISPRA o dal Consiglio Nazionale. In questo l'accenno che veniva fatto alla mancanza di personalità giuridica del Sistema Nazionale di Protezione Ambientale per un giurista come me è un tema sicuramente molto affascinante e che dovrebbe trovare una sua risoluzione attraverso l'invenzione, io credo, di una struttura che risponda a questa esigenza. Poi i giuristi in genere sono noiosi, ma a volte hanno anche una buona immaginazione. Così come è stato rividificato l'Ispettorato Nazionale del Lavoro a fronte di un'emergenza di prevenzionistica infortunistica, io credo che non sarebbe fuori luogo immaginare non soltanto le funzioni di polizia giudiziaria e ispettive meglio regolate di ISPRA, delle agenzie e del sistema, che vivono comunque in un equilibrio delicato tra istanza centrale e ruolo delle regioni, ma pensare a un Ispettorato Ambientale Nazionale che anche qui sulla base di una gestione validata di tutti quei dati che accennavo prima possa intervenire in maniera coordinata e in maniera omogenea su tutte queste realtà. Io credo che nello specifico del tema delle bonifiche, mi avvio a concludere, nello specifico del tema delle bonifiche, ma non soltanto perché come avrete inteso ho voluto utilizzare in qualche modo il tema delle bonifiche come approccio induttivo ai temi più generali del lavoro del sistema, una seconda chiave oltre alla conoscenza è l'immaginazione. Immaginare delle soluzioni e investire non soltanto, ed è necessario, del denaro PNRR o altro, il fondo a cui accennava Stefano Ciafani, un ragionamento che più volte abbiamo cercato di affrontare, ma anche degli investimenti in immaginazione. Da questo punto di vista, e concludo, il tema delle norme è un tema centrale. Noi abbiamo bisogno di una complessiva architettura che è possibile, ce lo dimostra la legge 68 del 2015, ce lo dimostra la legge 132 del 2016, di un'architettura chiara e praticabile, delle norme in materia ambientale, e non di ridurci, e il tema delle bonifiche purtroppo, a mio avviso, criticamente è stato messo in queste condizioni, a una sorta di magazzino in cui si passa e si aggiungono delle cose, senza capirne il disegno complessivo e soprattutto senza riuscire a valutarne, che è la cosa importante, l'efficacia complessiva, ed è purtroppo l'esperienza di questi anni. Ho concluso e vi ringrazio per l'attenzione. Allora, grazie, grazie per l'intervento, ma devo dire che ho visto molta più scientificità e a volta capacità di applicazione del pensiero scientifico dei giuristi che nelle altre parti, diciamo, delle discipline tecnico-scientifiche, quindi sicuramente l'approccio è quello corretto. Giuseppe poneva delle sfide importanti, ha citato l'autorità indipendente, ha citato il soggetto depositario dell'informazione del dato ambientale validato, e questa è una bella sfida, e alla parte conclusiva dice che bisogna avere coraggio e investire nell'immaginazione. Su questo effettivamente dobbiamo concentrarsi anche perché la 132 pone al sistema una sfida importante, quindi non solo la terzietà, l'indipendenza, non solo la rigorosità, come ovviamente deve essere la depositaria dell'informazione del dato scientifico, ma anche, come dire, avere la capacità di mettersi in gioco, di svolgere un ruolo di supporto in sintesi allo sviluppo sostenibile, e quindi in quanto tale avere anche la capacità di confrontarsi con tutti gli altri aspetti che declinano la sostenibilità, quindi gli aspetti economici e sociali, e aprirsi a un confronto, e questo confronto mi pare di vederlo anche in questa tavola rotonda di oggi, su cui darei la parola adesso al presidente di Assoreca, Angelo Merlin, per sentire un attimo dal punto di vista della società di gestione, delle imprese, come vedono il sistema e quali sono le aspettative che da quel punto di vista, da quel punto di osservazione, sono destinate al sistema nazionale. Quindi mi pare che sia in linea, Angelo Merlin, e darei la parola per il suo intervento. Grazie, grazie presidente. Mi riaggancio immediatamente alle parole del dottor Batterino, perché anch'io avevo pensato questo intervento, che spero sia breve, non nella soluzione del che cosa può fare il sistema, ma che cosa potrebbe fare il sistema, proprio sull'ipotesi dell'immaginazione. E seguendo la, anch'io da giurista, da studioso del diritto penale, seguendo quello che diceva il dottor Batterino, io direi che è necessario imprimere una spinta maggiore per favorire le condotte reintegratorie nelle sue tre forme progressive, messe in sicurezza, bonifica e ripristino. E se vogliamo fare questo in relazione a tutto il lavoro molto buono che ha fatto il sistema sull'omogenea applicazione della legge 68-2015, ci dobbiamo immaginare un sistema dove la valorizzazione della prospettiva rimediale, prima che la valorizzazione della prospettiva punitiva penale, trova questa immaginazione interessanti assonanze a livello comparato, a livello di diritto comparato. Io posso pensare il sistema così come anche lo immaginava il dottor Batterino in relazione a quello che succede nel Regno Unito e quello che succede nell'ordinamento statunitense. Nel Regno Unito l'Agenzia per l'Ambiente e nell'ordinamento statunitense l'EPAE fanno qualcosa in più di quello che è stato immaginato e di quello che è stato messo sul piatto per l'Italia. E che cosa fanno di così importante? Utilizzano oltre al modello sanzionatorio punitivo che utilizziamo anche qua, ma che viene applicato in via assolutamente residuale quando le tecniche di enforcement non producono risultati. molto importante nell'ordinamento statunitense dove dal 1995 è operativo l'audit policy emanato dall'EPAE che ha lo scopo di migliorare la protezione dell'ambiente e della salute umana, incoraggiando i soggetti a scoprire, comunicare, correggere e prevenire le leggi, le violazioni delle leggi in materia ambientale. Tant'è che il Dipartimento di Giustizia americano decide se procedere o meno penalmente nei confronti dei soggetti inquinatori su raccomandazione dell'EPAE e su raccomandazione dell'EPAE sulla base della comunicazione volontaria della violazione da parte del trasgressore della cooperazione che questo trasgressore ha avuto con le autorità governative nelle indagini, del ricorso delle procedure di controllo e soprattutto delle ricorse e le misure atte a porre rimedio rapidamente e completamente alle violazioni ambientali e ai danni causati. Io credo che questa disciplina premiale dei paesi anglo-americani che dà un rilievo assolutamente importante alle agenzie, ecco come io vorrei che fossero e non solo io ma io in rappresentanza dell'associazione di categoria ovviamente che rappresento, ecco come vorrei che io diventassero le agenzie e il sistema nazionale di protezione ambientale perché credo che la disciplina premiale statunitense potrebbe costituire comunque un modello interessante nella prospettiva dello sviluppo della funzione ripristinatoria, ovviamente non in chiave di non punibilità all'interno del diritto ambientale italiano, tant'è che adattando le condizioni anglo-americane nel nostro ordinamento potremmo utilizzare, ipotizzare la valorizzazione degli elementi di scoperta e della comunicazione dell'illecito autonomamente e volontariamente realizzate da chi trasgredisce le regole. Il ripristino ambientale visto come sanzione penale autonoma, coerente con la tutela del bene ambiente. L'impegno sul piano della prevenzione da parte delle aziende sviluppando per esempio in chiave 231 la conformità dei sistemi aziendali e i più ribatti standard tecnici di riferimento. Ovviamente la previsione di un numero limitato di volte in cui la non punibilità può essere concessa evitando che il meccanismo riparativo istintivo possa risolversi in un salvacondotto per i cosiddetti inquinatori benestanti e comunque il mantenimento di una quota residua di sanzione pari al profitto conseguito dal trasgressore, contrastando così il rischio che l'operatore preferisca seguire l'opzione della correzione e riparazione ex post della violazione ambientale piuttosto che la prevenzione della violazione stessa. Io credo che questo sistema premiale ipotizzato e per questo immagino potrebbe sicuramente diventare uno strumento efficace ed economico per assicurare e potenziare il rispetto della normativa da parte degli operatori. Il sistema potrebbe essere sicuramente vantaggioso anche per l'SNPA, ridefinendo parzialmente il ruolo dello stesso anche come autorità attiva su un piano negoziale e di indirizzo nei confronti dei trasgressori, con un significativo risparmio in termini di risorse umane e strumentali, nonché a mio avviso di tempo e vantaggi per il bene giuridico tutelato e cioè il bene ambiente. La nostra associazione è disponibile in questo senso ad un confronto e ad una collaborazione attiva per lo sviluppo di efficaci strumenti extrapenali che ben funzionano, signori, negli altri ordinamenti. Quindi dobbiamo anche guardare dove le cose funzionano bene per la tutela del bene ambiente. Io vi ringrazio e cedo la parola al Cerman. Grazie. Grazie. Una bella sfida da mettere in campo e sicuramente quella della premialità, di mettere in atto anche delle politiche che possano in qualche maniera considerare la parte virtuosa del sistema delle imprese. ci sono tanti problemi, ovviamente il nostro, non sono giuridico sicuramente, ecco, però la nostra impostazione attuale diciamo che non va in quella direzione. Un esempio fra tutti, a noi piacerebbe innestare dei meccanismi premiali anche valorizzando le attività delle imprese sugli autocontrolli, ma questo evidentemente si scontra su un'impostazione, diciamo, delle norme, dell'impostazione giuridica che è appunto, ha una storia alle spalle che è indirizzata in certe direzioni. Però ecco, un ruolo anche proattivo da parte del sistema è sicuramente assolutamente da mettere in campo, ci stiamo lavorando, stiamo mettendo in campo tutte le proposte perché ci possa essere anche un ruolo proattivo, propositivo da parte del sistema, oltre che l'assoluta necessità di mantenere il presidio delle attività di controllo e vigilanza che evidentemente devono essere un caposaldo del sistema. Guardando appunto ai nostri interlocutori esterni, anche in questa visione prospettica del sistema, adesso darei la parola a Augusto De Santis del Comitato Magliette Bianche, che credo che sia collegato, sì, lo vedo e quindi do a lui la la parola. Mi sentite? Mi sentite? Ti sentiamo benissimo, ti vediamo, sì. Grazie alla rete del sistema per averci invitato, noi siamo un gruppo di in realtà comitati e associazioni dai SIN soprattutto e da alcuni SIR appunto regionali e ci occupiamo di bonifiche da molti anni a vari livelli. Ci sono gruppi più strutturati, diciamo così, che fanno anche ricorsi al TAR per dire che insomma siamo parte attiva, piuttosto che cittadini magari di comitati più spontanei che comunque sono molto preoccupati soprattutto per la salute dei cittadini che vivono in questi siti contaminati. Cosa può fare il sistema delle agenzie? Beh, io devo dire recuperare questi decenni di ritardo di un paese purtroppo molto arretrato dal punto di vista dell'ambiente, anche devo dire, perché bisogna anche prendersi le responsabilità anche da parte dei cittadini arretrato. Molto spesso abbiamo cittadini poco consapevoli della situazione del proprio territorio e dello stato di contaminazione. Le agenzie purtroppo scontano appunto un ritardo sia nella costituzione stessa del sistema, sia del finanziamento, sia del paese del sistema politico e delle imprese che o non ci ha creduto o addirittura ha ostacolato, perché noi crediamo, non abbiamo questa visione edulcorata delle imprese. Le imprese sinceramente nel nostro paese hanno eh non messo a bilancio decine di miliardi di euro per eh provvedere ai loro obblighi di eh bonifica. Eh e quindi il sistema si è plasmato sostanzialmente eh più verso diciamo il fatto di non bonificare o se di bonificare sfruttando scusate delle procedure molto spesso anche ridicole, parlo dell'analisi di rischio, molti di quei siti contaminati probabilmente eh vengono eh definiti o o siti escono dalle procedure di bonifica con analisi di rischio diciamo così piuttosto eh a mio avviso ridicola, al nostro avviso eh eh ridicola. Noi guardate eh l'analisi di rischio che dovrebbe essere una un'ipotesi diciamo ehm ehm quasi eh secondaria nel procedimento di bonifica invece diventa il punto centrale dove soprattutto se non ci sono strutture tecniche adeguate le aziende fanno il bello e il cattivo tempo. Se pensiamo che alcune agenzie ancora oggi non hanno l'accreditamento a credia per i loro dati ma ci vogliamo fare analisi di rischio ma di cosa stiamo parlando voglio dire. Quindi una delle cose che può fare il sistema delle agenzie e sollecitare l'accreditamento di tutti i parametri eh delle ehm di di tutte le agenzie sul territorio cosa che eh insomma è ancora di là eh da venire. Eh bene questo aspetto della trasparenza noi eh riteniamo che il decreto centonovantacinque duemilacinque io voglio dire che questi dati ambientali dovevano essere resi disponibili per i cittadini dal duemilasette. Oggi ancora non ce l'abbiamo perché applaudiamo il fatto che da qui a breve arriverà online un sistema che ci permette di consultare i dati eh noi speriamo che quei livelli diciamo siano eh diciamo i livelli siano consultabili effettivamente ai cittadini non ci siano filtri che impediscono di accedere ai dati eh perché così dice il centonovantacinque duemilacinque e però ancora non ci arriviamo sono passati quindi sedici anni o meglio dall'obbligo sono passati quattordici e ancora non ci arriviamo. Se pensiamo che il primo a non essere eh quindi le agenzie stanno facendo uno sforzo forse dovremmo dire di fare lo stesso al mite perché se vediamo i siti nazionali di bonifica questa situazione è veramente vergognosa da parte del ministero. Eh ministero mi verrebbe da dire che alcuni siti sono orfani ma non orfani perché non c'è il eh responsabile da contaminazione. Proprio orfani perché il ministero dell'ambiente sostanzialmente non se ne occupa. Consultavo prima il sito di Tito per dirne una di di non vede attività da parte del ministero dell'ambiente dal duemiladiciotto sono passati tre anni per un sito nazionale di bonifica. Quindi magari è vero che molte bonifiche eh molti procedimenti di bonifiche con quell'ecricità che dicevo prima vanno a finire però se non portiamo a casa i siti più importanti diciamo così mi interessa poco che ci interessa sicuramente ma non è quello eh prioritario bonificare una pompa di benzina quando ci abbiamo Taranto quando ci abbiamo Priolo quando ci abbiamo eh Trieste che è un sito dove ci sono situazioni di discarica vergognose in prima in piena città che non vengono eh risolte. Eh quindi bisogna assolutamente noi facciamo sì che di premere su queste agenzie anche a volte eh sul territorio in forma critica altre volte in forma collaborativa con Lucina Lucchetti dell'Arta Abruzzo noi lavoriamo veramente a stretto eh contatto eh però eh crediamo che eh le agenzie possono anche fare di più e meglio per esempio per una cosa che sembrerà banale ma per l'educazione perché il sistema dell'agenzia deve fare educazione e formazione non solo delle aziende delle dei tecnici delle strutture cosa che è assolutamente necessaria ma anche dei cittadini quindi io proporrei al sistema dell'agenzia di organizzare eh seminari sul territorio dove spiegare i procedimenti di bonifica ai cittadini anche perché io penso che molti cittadini quando se venissero a sapere di come è fatta l'analisi di rischio ci sarebbe un movimento in Italia per dire togliete l'analisi di rischio che è solo un modo per far finire eh le bonifiche eh per far dichiarare un sito bonificato molto spesso senza far pagare nulla alle eh aziende. Crediamo che eh le nelle banche date e banche dati ci debba essere chiara l'indicazione dei soggetti e cioè dei privati eh responsabili con nome e cognome in queste banche dati anche per far emergere magari un ruolo generale di alcune grandi società eh che eh vedendo spezzettato il loro ruolo sul territorio magari non emergono come soggetti critici diciamo così alla eh società. ehm infine a mio avviso eh le ARPA possono le il sistema nazionale può dare un contributo anche se dovrebbero farlo le regioni e eh il ministero eh soprattutto nelle procedure nella trasparenza eh io mi ricordo l'anno scorso proprio sull'Emilia Romagna parlavo con un responsabile e diceva ma ma voi la l'avviso di avvio del procedimento di bonifica delle conferenze di servizi le pubblicate è perché la norma dice questo cioè che dovrebbero essere i cittadini messi a conoscenza dell'avvio del procedimento mi ha detto di no. Eh io sono andato a controllare sul sito effettivamente non ho trovato queste eh queste informazioni degli avvio del procedimento. Ecco forse dovremmo lavorare di più e ci mettiamo anche noi eh come cittadini interessati a sollecitare il il la popolazione a partecipare a questi procedimenti che sono così importanti per il loro territorio non solo mettendo online un avviso ma forse dovremmo anche tornare questa cosa del digitale ci sta forse prendendo un po' di mano perché poi c'è la vita anche reale diciamo che forse prevedendo nelle normative avvisi ehm diciamo sui sui siti di non solo quello dell'albopetorio intendo ma insomma anche magari manifesti eh come un po' la le le procedure di inchiesta pubblica sulle vie che non si fanno a livello nazionale però in alcune regioni si fanno anche sui procedimenti di bonifica forse dovremmo pensare a una fase diciamo pubblica eh in cui si sollecita il territorio a dare la loro l'indicazione che viene dalla popolazione per queste eh per queste vicende diciamo così e e perché senza la spinta della popolazione le agenzie non vanno da nessuna parte cioè senza la spinta della popolazione a chiedere finanziamenti pesanti per il sistema di controlli non abbiamo non andiamo da nessuna parte perché non bastano degli intellettuali per o belle idee ma per far camminare belle idee ci vuole una grossa massa critica che eh diciamo faccia il suo per reclamare eh che il sistema delle agenzie diventi eh maturo oggi non è immaturo infine un'ultima cosa il sistema delle agenzie dovrebbe migliorare eh copiando alcune delle cose positive del sistema anglosassone noi non siamo molto d'accordo con quello che diceva chi mi ha preceduto sul così sul su stanno così bene gli Stati Uniti e gli Stati Uniti stanno molto sono molto inquinati e non è che hanno risolto eh granché ma comunque quello che potrebbero fare le agenzie in alcuni casi tipo per le linee guida sul suolo qualcosa è stato fatto ecco eh rendere più partecipi i cittadini per esempio una definizione dei limiti di legge per esempio eh fare un sistema in cui i cittadini possono interroguire in maniera pubblica ehm con osservazioni per diciamo eh questa evoluzione le del anche per grazie alle conoscenze tecniche che ci deve essere nel nella questione dei limiti e delle eh procedure. Grazie. Grazie, grazie per l'intervento sicuramente un'attenzione più forte alla partecipazione e alla e al rapporto con con i cittadini lo stiamo facendo su vari fronti adesso per ragioni di tempo non li richiamo ma tutte le esperienze ad esempio anche di citizen science vanno in quella direzione perché aiuta a crescere sono esperienze che aiutano a crescere da un lato e dall'altro. L'autorevolezza delle agenzie credo che con il sistema il concetto di sistema eh debba crescere e ehm sì gli spunti sono assolutamente interessanti e devo dire all'attenzione anche la questione degli accreditamenti quella quella misura che c'è nel progetto nel programma complementare al PNRR va nella direzione di potenziare le capacità di di analitiche e laboratoristiche del del sistema nazionale e di qua probabilmente si potrà crescere anche nella direzione dell'accreditamento. Io do subito la parola adesso alla assessore all'ambiente di vieta del suolo della costa protezione civile della regione Emilia Romagna Irene Priolo eh assessore abbiamo parlato delle potenzialità del sistema la declinazione interessante il sistema che fa rete tra centro e territori eh considerando e questo deve essere sempre più spinto e e tenuto in considerazione le esigenze e le caratteristiche dei singoli territori quindi un avvicinamento forte tra l'azione del sistema e le politiche e le strategie regionali questo l'occasione di oggi è le bonifiche ma evidentemente può avere una valenza assolutamente di carattere generale a te assessore la parola eh direi che con l'intervento dell'assessore andiamo alle conclusioni quindi ti do la parola assessore buongiorno a tutti spero che mi sentiate bene in genere ho un po' problemi di audio con questo sistema. Ti sentiamo ti vediamo bene. Perfetto allora il dibattito di questa mattina è estremamente interessante io partirei da una considerazione che ha fatto il presidente di Lega Ambiente che saluto con il quale eh ci vediamo spesso e con cui lavoriamo su diversi fronti. È probabilmente vero che il tema delle bonifiche mh non è stato proprio al centro dell'attenzione dell'agenda politica nel corso di questi anni. Eh va da sé faccio un esempio nostro emiliano romagnolo in cui eh in Emilia Romagna per i siti orfani nazionali in vent'anni sono arrivati diciotto milioni di euro per la bonifica. Voi sapete noi abbiamo due siti orfani nazionali però finalmente viva Dio forse concludiamo eh quello che abbiamo a Fidenza. Questo per dire che in vent'anni è evidente che il finanziamento per la risoluzione di questo problema non è stato probabilmente all'altezza del compito che doveva svolgere. Tuttavia eh ancorché sono d'accordo con Cefani che le risorse non sono sufficienti a centrare l'obiettivo delle bonifiche del nostro sistema paese eh io devo dire che mh entrano in agenda i siti orfani regionali. Bisogna che questo noi lo sottolineiamo perché adesso noi eh stiamo candidando i nostri siti orfani regionali. Noi abbiamo già fatto una delibera che individua i criteri per poi presentare la richiesta di finanziamento. Stiamo candidando trentatré siti orfani per cinquanta milioni di euro dell'Emilia Romagna. È un importo che noi non abbiamo mai avuto e che da questo punto di vista può dare concretezza e risposte reali. Ora il raggiungimento dell'obiettivo è molto lontano perché noi in realtà ne abbiamo 602 di siti da bonificare per cui siamo eh veramente in una gara complicata. Però poter partire con delle risorse eh ritengo che sia fondamentale ma poi lo dimostra anche il dibattito di questa mattina. In realtà è un argomento che eh sta trovando diciamo nuovi stimoli di discussione perché non si colloca soltanto più in una prospettiva di carattere ambientale ma si colloca in una prospettiva di rigenerazione e riqualificazione urbana perché poi alla fine una volta che questi siti sono stati bonificati noi dobbiamo cercare di comprendere come questi siti ritornano diciamo eh attraverso una rigenerazione al eh alla collettività perché poi alla fine è questo che noi dobbiamo riuscire eh a portare a compimento. E allora la distanza forse in questo momento è ancora lunga tra politiche ambientali da una parte e politiche urbanistiche dall'altra parte. Cioè riuscire a coniugare una visione strategica di sistema diventa importante. E allora io in giunta ho fatto questa discussione perché se adesso noi stiamo candidando trentatré siti e ci dovessero arrivare i finanziamenti è evidente che noi non dobbiamo ragionare soltanto su questo segmento ma dobbiamo già immaginare che cosa succede dopo. Quali sono le cose che noi mettiamo in atto per fare in modo che se abbiamo dei siti che sono contestualmente anche dei brownfield che quindi hanno come dire dal punto di vista della collocazione territoriale un approccio strategico ecco che forse noi possiamo pensare di non consumare suolo ma di ridare come dire al territorio nuove potenzialità attraverso uno strumento di bonifica. Ora la regione Emilia Romagna per riprendere anche la discussione che ha fatto l'interlocutore prima di me e per fare in modo che anche il cittadino sia nella piena consapevolezza di quello che noi stiamo facendo perché alla fine io credo che noi il tema della partecipazione diventa urgente quando la politica non risolve i problemi. Io lo dico così cioè il cittadino chiede di partecipare quando a fronte di un problema che nel corso degli anni non si è risolto ancora come dire non abbiamo soluzioni certe. Ora la regione Emilia Romagna per la prima volta insieme al piano dei rifiuti porterà a compimento anche il piano delle bonifiche quindi inserisce in un percorso partecipato di trasparenta perché questo è ciò di cui stiamo parlando il percorso che noi vogliamo fare. Ora è evidente che i siti sono pubblici ci sono individuati sui vari portali però il cittadino non ha la consapevolezza esatta intanto di quali siano le matrici ambientali, di quali siano i problemi sulla propria salute, di quali siano come dire i provvedimenti che noi dobbiamo mettere in atto. Quindi anche questo piano delle bonifiche dell'Emilia Romagna che appunto pone al centro questi 620 siti di cui vi parlavo prima per noi diventa assolutamente strategico in questo momento. È evidente che i 500 milioni a livello nazionale, io sapevo che erano 600, non sapevo che fossero già diminuiti di 100 milioni però è evidente che nella negoziazione su questo PNRR si sta un po' come dire dibattendo tutti i giorni. Ad ogni buon conto la mia preoccupazione ed è per quello che l'incontro di questa mattina lo ritengo importante e fondamentale è che noi faremo fatica a rispettare i tempi che ci consegna il PNRR perché le bonifiche sono sempre molto lunghe e complicate per cui se ci vengono consegnati 50 milioni di euro riuscire a dire che in 5 anni perché poi questo è lo spazio temporale che ci viene consegnato abbiamo concluso l'Italia il percorso lo ritengo molto ambizioso. Lo dico perché se prima vi dicevo ci abbiamo impiegato 20 anni per risolvere un problema dal momento in cui è stato finanziato di un sito orfano nazionale 20 anni e ancora non è concluso lo concluderemo il prossimo anno è evidente che come dire 33 siti in 5 anni lo ritengo complicatissimo per cui cercare di comprendere come gli aspetti che voi avete sottolineato in tutte diciamo le sue sfacettature diventi fondamentale io lo ritengo strategico. Ora l'Emilia-Romagna ha una caratteristica particolare voi lo sapete perché noi con Arpai abbiamo riunito contemporaneamente le funzioni di autorizzazione di controllo per cui siamo un unicum lo ritengo un valore aggiunto un valore aggiunto perché da questo punto di vista c'è la maggiore consapevolezza del processo che noi stiamo mettendo in atto siamo una realtà che sicuramente può da questo punto di vista come dire gestire il processo dalle origini fino diciamo al suo completamento è evidente l'abbiamo sottolineato in un convegno che è stato fatto a Bologna il 13 di settembre che il potenziamento del sistema dei controlli diventa fondamentale e quindi da questo punto di vista abbiamo delle discussioni che però guardate banalmente per poter potenziare il sistema noi abbiamo bisogno di robustire anche le strutture per irrobustire le strutture noi abbiamo bisogno di fare assunzioni che siano finalizzate a questi scopi e adesso non apro un argomento che è noto ai tecnici è noto diciamo è un argomento un po' di nicchia ma noi abbiamo bisogno di galloppare sui concorsi che ci consentano di robustire le nostre strutture tecniche perché abbiamo del personale molto qualificato e tutto questo fa il paio con l'autorevolezza di cui parlava Bortone prima più il sistema dei controlli autorevole più da questo punto di vista noi riusciremo a portare diciamo a compimento anche i nostri percorsi e avremo la fiducia del cittadino oggi un cittadino ha una totale sfiducia nel sistema della pubblica amministrazione guardate mette in discussione le analisi scientifiche che noi poniamo sui tavoli di confronto e questo è un tema che va assolutamente recuperato perché noi abbiamo delle competenze straordinarie e da questo punto di vista io ovviamente parlo per la mia arpae però sono ogni volta che noi poniamo come dire un'analisi scientifica attraverso i nostri tecnici vi posso garantire che molte volte il cittadino le mette in discussione e fa controanalisi con altri studiosi per cui anche il tema dell'autorevolezza per questo procedimento che noi stiamo facendo in questo momento è estremamente interessante noi faremo un appuntamento su questo argomento il prossimo quattro novembre proprio all'interno di tutto il percorso sulla redazione del piano il piano regionale dei rifiuti delle bonifiche perché siamo consapevoli che questa è una nuova sfida che ci troviamo davanti e nel momento stesso in cui esce un piano delle bonifiche che individua i siti per cui i siti inizieranno ad avere per tutti i cittadini un nome e cognome in maniera più chiara noi avremo bisogno di fare sistema anche con gli enti locali quindi con i comuni cioè non basta il livello nazionale e regionale sarà necessario portare avanti un livello di coesione anche con il sistema degli enti locali e quello comunale perché come sapete bene in presenza di un sito orfano in teoria dovrebbe essere l'ente locale intervenire che però ha totalmente come dire le armi spuntate per cui è per questo che anche questo finanziamento ancorché non esaustivo del nostro fa bisogno secondo noi è estremamente importante dicevo il coinvolgimento dei comuni quindi un sistema forte multilivello perché è fondamentale tra diciamo il sistema dei saperi da una parte il sistema delle conoscenze il sistema autorizzativo il sistema istituzionale e poi i cittadini perché poi dopo alla fine il cittadino ha bisogno di comprendere esattamente qual è la situazione perché questi procedimenti si portano dietro a cascata un conflitto che noi poi dobbiamo gestire e questo lo sappiamo sempre in maniera come dire molto attenta quindi è un compito della politica abbiamo la necessità di fare in modo che il cittadino si senta rassicurato da quello che stiamo facendo però è evidente che oggi è sempre più complicato tenere la coesione sociale su questi procedimenti che si portano dietro poi dopo giustamente delle paure il nostro secondo sito nazionale orfano è a bologna il sito dell'officine di riparazione voi sapete che le ogr da noi hanno creato nel corso degli anni moltissime morti sul lavoro moltissime uno anche recentemente a bologna un ragazzo anche giovane è evidente che come dire questi aspetti qua si portano dietro la necessità di un aumento della sensibilità da parte della pubblica amministrazione però ecco io sono come dire stimolata da da un dibattito che sta venendo avanti in maniera più diciamo strutturato che nel passato cioè il pnrr ancorché ve lo dico molto onestamente non abbia trovato ancora oggi una cabina di regia appropriata con le regioni ne stiamo discutendo però ancora diciamo è stato scritto un documento senza una piena condivisione con le regioni però è vero che sta mettendo al centro una discussione senza precedenti delle opportunità senza precedenti e quindi noi dobbiamo saper coniugare comunque questa opportunità con una visione strategica ed è tanto vero che io su questi temi delle bonifiche non lo discuto l'argomento soltanto all'interno del mio assessorato ma sono altri due gli assessori che coinvolgo tutte le volte che sono quelli dello sviluppo economico quindi attività produttiva da una parte e pianificazione urbanistica dall'altra perché noi soltanto lavorando in modo orizzontale su queste tematiche potremmo portare avanti in maniera più compiuta una visione strategica come vi dicevo agli inizi per ridonare alla comunità questi siti e quindi per mettere in campo una visione se volete circolare del sistema e la possibilità appunto di avere nuove opportunità attraverso un sistema che tutela l'ambiente e la salute eh io mi fermerei qui se siete d'accordo spero di non essere andata troppo per le lunghe eh avrò anche un altro appuntamento con il generale Vadalà che sta su questo eh lavorando a livello nazionale in maniera molto importante eh che dire mettiamoci tutti di impegno eh sapendo che bisognerà una volta esaurito il fondo del PNRR comprendere come rialimentare questo fondo perché cinquecento milioni sono un unicum eh perché sui siti nazionali il governo ha distribuito risorse quest'anno per cento milioni capite eh la la differenza noi in Emilia Romagna arrivano cinque milioni per il sito di Fidenza quindi mh la sfida è veramente molto impegnativa e l'Emilia Romagna non fa la parte da leone eh nell'ambito delle bonifiche noi rispetto a una regione come la Lombardia abbiamo nettamente in termini quantitativi meno siti da bonificare quindi è una bellissima sfida ma è necessaria e finalmente non è più rinviata quindi grazie per questa opportunità grazie ad Alessandro che mi ha invitata e mi ha dato diciamo quest'ulteriore eh momento di approfondimento che alla politica è sempre molto utile. Grazie Assessore eh non so se Alessandro Bratti è tornato l'hanno lasciato dalla corte rilasciato dalla corte dei conti però credo al suo nome di eh ringraziarvi ringraziarvi tutti per la per la partecipazione e vi saluto ah eccolo lo vedo comparire Alessandro quindi l'esito dell'audit è stato positivo se ancora no siamo no sono ancora in pieno audit comunque eh ho seguito anche eh le le diciamo l'ultimo intervento dall'assessore Priolo che ringrazio per per eh così come ringrazio tutti gli altri ospiti ringrazio te Giuseppe noi credo che alle unici e un quarto dovevamo concludere questo focus che è uno poi dopo Remtex sia sia diciamo nei prossimi nei prossimi giorni avremo anche occasione di dibattere di confrontarci sugli ulteriori argomenti io quindi ringrazio tutti gli ospiti a nome di Ispra i temi dibattuti sono in parte noti in parte qualcosa anche di nuovo ovviamente sta a noi mettere dare una mano anche per mettere in campo le soluzioni più opportune grazie di nuovo e buon lavoro a tutti grazie Beppe grazie arrivederci grazie arrivederci buona giornata grazie ciao 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 Lucina grazie a tutti Grazie.